Non molto tempo fa ero assorto e meditavo con scomento, come faccio spesso, in quale modo fossi entrato nella vita, e come ne sarei dovuto uscire. Non ero tormentato dal sonno, come accade a chi è spiritualmente debilitato, e mi sembrò di vedere una donna bellissima e luminosa. Non sapevo da dove venisse, ma l'abito e il volto spandevano una purezza virginale. Mentre abbassavo gli occhi, non osando alzarli verso i suoi raggi, lei così mi parlò. — Francesco, non avere paura, non lasciarti travolgere dalla mia bellezza. Vengo in tuo aiuto, perché ho compassione dei tuoi errori. Sin qui hai tenuto gli occhi rivolti alle cose terrene. Ma se alzi lo sguardo verso l'eternità, domandati che cosa potrai aspettarti. Dopo averla ascoltata, risposi in un senza tremore con le parole di Virgilio. Come posso chiamarti, o vergine, perché non hai volto mortale, né umana suona la tua voce? Io sono quella che tu hai descritto con sottile eleganza nella nostra Africa. Non lasciarti intimidire da colei che tu dici di conoscere intimamente. Ella non poteva essere altro che la verità. Mentre alzo gli occhi su di lei, la sua luce celestiale mi fa di nuovo gettare lo sguardo a terra. A poco a poco, ella mi induce però a parlarle, e dopo aver imparato a sostenere il suo sguardo senza tremare, tutto preso da una straordinaria dolcezza, mi accorgo allora della presenza di un vecchio, dall'aspetto maestoso e venerando. Non ebbe bisogno di chiedere il suo nome. L'aspetto venerabile, la dignità del portamento, l'abito africano, ma l'eloquenza romana, mi dicevano che si trattava senza dubbio del glorioso padre Agostino. La verità si rivolse a lui, che aveva un'espressione dolce e intensa. Agostino, tu sai che costui soffre di una malattia della quale non riesce a comprendere la natura. Occorre dunque soccorrere questo moribondo, e chi meglio di te può farlo? Anche tu hai sofferto molte pene simili a quest'uomo, fino a quando sei stato chiuso nel carcere del corpo. Tu hai provato le sue stesse passioni, ne sei guarito, e puoi essere il suo medico, e alleviare, con qualche rimedio, il suo grave stato di prostrazione. Al che Agostino rispose, tu sei la mia guida. Perché non parli tu al posto mio? E la verità, ma tu sei umano, e solo una voce umana può colpire l'orecchio di un mortale. Io starò qui, in silenzio, ad ascoltare le tue parole come fossero le mie. E così, lontani da ogni rumore, in presenza della nuda e silenziosa verità, cominciamo a dialogare dei costumi degli uomini, delle colpe comuni ad ogni uomo, e di quelle delle quali io sono stato personalmente accusato. Affinché non dimenticassi quelle parole, ho riempito queste pagine, non perché voglia annoverarle tra le mie opere, ma per poter di nuovo provare la medesima dolcezza che già provai durante il dialogo. Queste pagine, dunque, saranno il mio segreto, e così saranno chiamate. Quando sarò occupato da impegni maggiori, così come in segreto ho registrato ciò che tra me, la verità e Agostino è stato detto, in segreto queste pagine me lo rammenteranno. Abbiamo sentito l'inizio del secretum di Petrarca, e forse gli ascoltatori possono meravigliarsi del fatto che oggi, in un mondo sempre più pericoloso, i poveri che tentano di fruire delle ricchezze dei ricchi, il terrorismo, una tecnica dominante, Ecco, qualcuno potrebbe stupirsi del fatto che si parli della poesia, e soprattutto della poesia di un autore come Petrarca, che non ha l'incidenza nelle cose pratiche che ha, per esempio, la poesia di Dante. C'è il dolore nel mondo, e può sembrare che la poesia sia un'evasione dal dolore. Certamente, ma siamo proprio sicuri che la poesia, e soprattutto la grande poesia, non abbia nulla a che vedere col dolore. La poesia non è forse uno dei grandi rimedi che l'uomo è scogitato per salvarsi dal dolore. Però qui noi abbiamo sentito l'inizio del secretum, che non è un testo poetico, è un testo in prosa. E tuttavia, per quanto ottima possa essere la traduzione, si tratta di un testo latino, che nella migliore delle riduzioni e traduzioni perde quello splendore. È inevitabile che perda quello splendore che compete alla scrittura di questo genio del linguaggio, che è Petrarca. Avremo occasione di vedere l'importanza di sondare, per quanto ci sarà possibile, l'importanza della forma poetica rispetto al contenuto. Ora è questo contenuto, cioè il mondo di Petrarca, che dobbiamo tentare di portare alla luce. Gli ascoltatori hanno sentito le parole chiave, hanno sentito la parola angoscia, paura, relazione verso l'eternità, il soccorso, l'aiuto che la verità porta al sofferente. Ebbene, queste sono astrazioni dell'uomo Petrarca o rispecchiano la situazione fondamentale dell'uomo? Ecco, dobbiamo cominciare a riflettere su questa situazione fondamentale, che ci riguarda tutti e che consiste nella sofferenza, nel dolore, nella morte. Queste, proprio le prime parole, parlano di sgomento relativamente al modo in cui, sì, lui Petrarca, ma il discorso va fatto per tutti gli uomini, in relazione al modo in cui si entra nella vita e come se ne deve uscire. Allora, lo sgomento, l'angoscia, la paura, il dolore, la morte, riguardano quella situazione originaria in cui ogni uomo, in ogni cultura, in ogni latitudine, in ogni tempo si trova. E l'uomo è il tentativo di sopravvivere, è il tentativo di sopportare l'angoscia, il dolore, la morte. E questo tentativo che dapprima si esprime come mito, come esistenza mitica, questo tentativo poi diventa sapienza filosofica. Si tratterà di vedere in che senso la sapienza mitica sia un rimedio e in che senso sia un rimedio la sapienza filosofica e poi cristiana alla quale Petrarca si rivolge con la scena che abbiamo ascoltato in cui la verità si presenta e si fa accompagnare dalla voce del grande Agostino. Qui possiamo aggiungere che la parola sgomento che è usata da Petrarca è collegata essenzialmente alla parola zauma, con la quale Aristotele indica appunto, ma non solo Aristotele ma anche Platone, con la quale Aristotele indica il terrore, che non si traduca zauma con meraviglia, no, zauma indica il terrore a partire dal quale l'uomo senti il bisogno di introdurre il sapere come rimedio per il terrore provato. Agostino cominciò a parlare per primo. Che fai, povero uomo? Che sogni? Che cosa aspetti? Ti sei dimenticato delle tue miserie? Non ti ricordi che dovrai morire? Certo che me lo ricordo. E ogni volta che mi torna in mente provo un profondo spavento. Magari te lo ricordassi. Cominceresti a pensare a te stesso. E mi avresti risparmiato molta fatica. Non c'è niente di più efficace che pensare alla propria infelicità e meditare intorno alla morte per disprezzare le lusinghe di questa vita. Ma questo pensiero deve entrare nel profondo delle ossa. Temo che tu stia ingannando te stesso. In che modo? Non capisco quello che dici. Voi mortali fate finta di non conoscere il pericolo che incombe su di voi e cercate di evitarlo quando vi si presenta. Come? Pensi che ci sia qualcuno tanto pazzo che non vorrebbe ritrovare la salute se fosse colpito da una malattia? Non penso che ci sia qualcuno pazzo a tal punto. Eppure voi mortali fate di tutto per attaccarvi ai piaceri terreni. Chi vuole eliminare la propria infelicità deve volerlo davvero compiutamente e non può fallire questo obiettivo. Sì, ma è molto facile conoscere, odiare la propria infelicità, mentre non è facile attuare questo proposito, liberarsi dal proprio stato infelice. Conoscere e odiare dipendono da noi, ma liberarsene dipende dalla fortuna. Pazzo che non sei altro. Non ti ricordi di quei detti filosofici che affermano che solo la virtù può rendere l'uomo felice e che solo il suo contrario può condurlo verso l'infelicità? Sì, sì, me li ricordo. Sono gli stoici che affermano questo. Allora devi allontanarti dai deliri del volgo. E non devi seguire la guida dei ciechi per raggiungere la luce. Dovete liberarvi dalle catene dei vostri vizi. Ma molti di noi, e io fra questi, soffrono appunto del fatto di non riuscire a liberarsi dai vizi, benché ci provino con tutte le loro forze. Ma in realtà molti, come dicono gli stoici, sono infelici anche se non lo vogliono, e soffrono aspirando alla felicità. Allora torniamo alla prima questione. A quando ho detto che la meditazione della morte e la coscienza dell'infelicità umana rappresentano il primo passo per uscire dalle angustie e sollevarsi più in alto. Il secondo passo è il desiderio e l'impegno costante a salire. Non so se la pensi così. Sì, sì, penso così. La verità che è qui presente può dire come io, sin dalla fanciullezza, mi sia messo dinanzi alla miseria della mia condizione, e quante lacrime abbia versato per cercare di lavare le mie macchie. Ma tu e la verità, potete vedere come tutto è stato vano. Tu ti sforzi di provare che nessuno è precipitato nell'infelicità, se non di sua volontà, e che è infelice solamente chi vuole esserlo. Ma per quanto riguarda me, avviene il contrario di quello che voglio. È una vecchia storia che si perde nella notte dei tempi. Io insisto nell'inculcarti nella mente che chi non vuole non diventa e non è infelice. C'è nell'animo umano un morboso piacere nell'ingannare se stessi. Ma io non ho mai ingannato me stesso. È qui che ti sbagli. Inganni te stesso vantandoti di non averlo mai fatto. Pensi che si possa commettere peccato per forza? Quando i dotti hanno stabilito che il peccato è un'azione volontaria, al punto che se manca la volontà, viene meno anche il peccato. Se non c'è il peccato, non c'è nemmeno l'infelicità. Mi costringe a riconoscere poco a poco che la mia infelicità ha origine dalla mia stessa volontà, che mi costringe a giacere ogni volta che cerco di rialzarmi, come fosse un castigo. Abbiamo ascoltato nella puntata precedente l'incontro di Petrarca con la verità e con il santo di Ippona, Agostino, e dicevamo che Petrarca ha a che fare con i problemi essenziali dell'uomo. E aggiungevamo che l'uomo ha sempre tentato di risolvere questi problemi che si riducono poi al dolore, alla morte, ha sempre tentato di risolvere questi problemi apprestando ripari, rimedi. E ricordo che accennavo al riparo in cui consiste il mito e al riparo in cui consiste la filosofia. La cosa può sembrare strana, ma il dolore è qualche cosa che angoscia non nell'atto in cui è subito, perché quando arriva la mazzata del dolore non c'è niente da fare. Il terribile è che quella mazzata ritorni. E allora l'angoscia comincia in relazione al tentativo di prevedere il ritorno del dolore. Ecco che allora la previsione non è soltanto un tratto del sapere scientifico moderno, ma la previsione è anticipata sin dall'inizio nella storia dell'uomo. E il mito in effetti è previsione. Parlo di mito e potrei anche estendere il discorso con tutto il rispetto per il cristianesimo, ma certamente il cristianesimo è una grande esperienza culturale. Si può parlare anche di mito cristiano. Petrarca ha a che fare e col mito nella forma del mito cristiano, e con la filosofia, e con la poesia che, come ho avuto modo di dire, giocherà un ruolo determinante nella figura, nella dimensione culturale di Petrarca. Ebbene, in che senso il mito è un rimedio? E in che senso poi la filosofia è un rimedio? Accennavo la puntata precedente che Aristotele chiama zauma il terrore che è provato e dal mito e dall'uomo mitico, Aristotele lo chiama philomizos, e dall'uomo mitico e dall'uomo filosofo. Il terrore per il ritorno del dolore e per l'incombenza della morte, ecco, il dolore è sopportato se si riesce a prevedere il senso globale del mondo, e il mito ha questo compito. Ora, quando Petrarca cammina sulla terra, quando si mostra sulla terra, la cultura dell'uomo ha fatto molti passi, cioè dal rimedio mitico si è giunti al rimedio filosofico, dopodiché, dopo secoli, è giunto il cristianesimo, e la cultura di Petrarca si inscrive in questa complessa vicenda in cui dal mito arcaico pre-filosofico ci si immette nel mito filosofico, il quale a sua volta si pone come terreno in cui viene ricevuto il mito o il kerigma cristiano. Non ci si scandalizzi la parola mito perché quando il cristianesimo parla di kerigma, il kerigma appunto vuol dire messaggio, e il mito, nel suo significato originario, vuol dire messaggio. Però, in questo testo che abbiamo sentito oggi, c'è qualche cosa di ulteriore rispetto a quanto abbiamo detto. Questo scenario in cui il mito e poi la filosofia riescono a prevedere il senso globale del mondo, e quindi a dare un senso al dolore che sopraggiunge, quindi non più imprevisto e dunque non più insopportabile, questa situazione è la situazione di fondo su cui si inscrive la specificità di questo testo di Petrarca, il quale non si riferisce esplicitamente, anche se lo sottintende, la stessa cosa avviene proprio all'inizio dell'inferno di Dante. Non si riferisce esplicitamente al terrore per la morte e dunque alla necessità di approntare, di preparare un rimedio. Si riferisce a qualche cosa di ulteriore, e cioè alla situazione in cui l'uomo, dopo esser riuscito, o dopo aver creduto di essere riuscito a raggiungere la verità e a poter parlare con la verità, la situazione in cui l'uomo teme di non essere capace di seguire la verità. Questa è la specificità e del primo tratto e di questo secondo tratto del testo che abbiamo sentito. Vedi, Francesco, tu sei ora immerso in quelle incertezze nelle quali un tempo mi sono dibattuto anch'io, quando mi sforzavo di trovare una nuova via nella vita. Ma che cosa credi? Anch'io mi sono battuto la fronte, mi sono torto le dita, ho stretto le ginocchia tra le mani intrecciate e ho versato a mare lacrime, mi sono strappato i capelli, ma la coscienza della mia infelicità e la volontà di cambiare strada mi hanno trasformato in un altro Agostino, come hai potuto leggere nelle confessioni. Sì, sì, ho letto quest'opera. Leggendola, infatti, ho avuto l'impressione di leggere non la storia d'altri, ma quella del mio stesso peregrinare. Ma io ti domando, cosa pensi cosa debba fare perché un animo, liberatosi dalle catene terrene, si elevi alle cose superiori. Per prima cosa devi pensare che voi tutti dovete morire, ma nessuno più di me si lascia colpire da un tale pensiero. Ma perché non parli? pensi che io stia mentendo? No. Ma vedi, ci pensi molto raramente, e in modo superficiale. Devi interrogare a fondo la tua coscienza. pochi riflettono intensamente intorno al fatto che dovranno morire, benché tutto intorno a voi ve lo suggerisca. Il cuore dell'uomo è indurito dall'abitudine, è come un callo impermeabile alle esortazioni di salvezza. Occorre invece meditare a fondo sulla propria fragilità, e domandarsi che cosa significhino quelle sillabe che compongono la parola morte. Ma che cosa intendi per meditare a fondo? Per quanto credo di comprenderlo da me, vorrei sentirlo da te con maggiore chiarezza. Vedi, benché sia opinione comune, confermata dalle parole degli illustri filosofi, dirò che la morte occupa il primo posto tra le cose tremende. Aggiungo che non basta percepire meccanicamente questa breve parola, ma occorre indugiare su di essa, e rappresentarsi a lungo, con intensa riflessione, le sembianze dei moribondi, come il loro petto bruci, mentre le estrenità si vanno raffreddando, come il corpo poi si bagni di un penoso sudore, come i fianchi pulsino, come lo spirito vitale si vada lentamente spegnendo al sopraggiungere della morte vicina, e allora osserverai gli occhi che si vanno incavando e dilatando, osserverai come si contrai il volto, le guance si afflosciano, i denti ingialliscono, le narici diventano rigide e affilate, le labbra emettono schiuma, la lingua torpida e secca, la testa pesante, il respiro rantolante, l'odore del corpo è rivoltante, mentre il volto si fa via via più brutto, senza espressione. Non ti spaventare, vedi, la memoria delle cose viste è più forte di quelle udite, ed è per questo che in certi ordini religiosi c'è l'usanza di far assistere i devoti alla lavanda dei corpi dei defunti e alla loro preparazione per la sepoltura. Tutto questo perché lo spettacolo triste e miserevole dei moribondi torni sempre vivo nella memoria e inorridisca l'animo dei sopravvissuti, facendovi riflettere sulla fugacità della vita. Ecco che cosa intendo per andare a fondo. E' inutile ripetere superficialmente, come fanno molti, quel detto «Oh, la morte è l'unica cosa sicura, ma non si può mai conoscere il momento in cui arriverà», e altre frasi di uso quotidiano. Vedi, queste parole volano via e non resta niente. «Sono d'accordo con te. Vedi, di solito sono cose che rimugino dentro di me, ma dammi qualche consiglio per non mentire più a me stesso e per non ricadere nei miei errori. Appena gli uomini vedono di aver raggiunto la meta, si fermano e non vanno più avanti. Bene, vedo che non pronunci parole a caso, ma cerchi di riflettere. Eccoti allora il segnale che non ti farà sbagliare. Se ogni volta che penserai alla morte non ne sarai sconvolto, devi sapere che il tuo pensiero sarà stato inutile. Se invece a questo pensiero tremerai, impallidirai e considererai che l'anima appena sarà uscita dal corpo dovrà comparire davanti al giudizio eterno e dovrà rendere conto di tutta la sua vita. E penserai che l'eloquenza, la bellezza e le ricchezze del mondo sono niente, che la morte non è la fine dei tormenti, ma un momento di passaggio è che l'ira di Dio si abbatterà su di voi per i mali commessi e che tutto ciò si presenterà come fosse realtà e non il frutto dell'immaginazione come fosse presente. E se allora porrai fiducia e speranza che Dio possa liberarti dai tuoi errori, dai tuoi mali, e se offrirai tutto te stesso alle sue cure con il desiderio costante di risorgere, allora ti renderai conto che la tua meditazione non sarà stata vana. Si rafforza anche in questo passo del secretum di Petrarca il carattere cristiano del suo pensiero e il carattere di un cristianesimo che si inserisce nella tradizione filosofica. La scena ormai la conosciamo, c'è un grande filosofo cristiano, Sant'Agostino, che parla all'uomo Petrarca di fronte alla verità. Ora, la verità alla quale si riferisce Petrarca non è una figura qualsiasi, è la verità così come è portata alla luce da quella seconda forma fondamentale di rimedio di cui parlavo nelle puntate precedenti, che è la filosofia, la quale si distingue dal mito proprio per questo, perché il mito apre un senso del mondo che però non può garantire la propria verità. Il mito ignora anche il senso che la filografia introduce con la parola verità. E dall'altro lato il mito proprio per questo deve essere oltrepassato da una forma di rimedio in cui si sappia con verità qual è il senso del mondo. Ma quando il pensiero filosofico si fa innanzi, si fa innanzi introducendo anche una categoria che il mito non può pensare, è quella del nulla. Gli ascoltatori hanno sentito che il testo di Petrarca dice che le bellezze e le ricchezze del mondo sono niente. Tuttavia, appena prima, il testo di Petrarca dice che la morte è un rendere conto di tutta la vita e non è una chiusura dell'esistenza, cioè la morte non è annientamento. Ora, questo è interessante perché le vanità, le forme, la bellezza, la ricchezza del mondo sono niente. Ma in questa descrizione della morte così icastica che abbiamo sentito, la morte come niente non viene alla luce. E questo è interessante perché non è che Petrarca non sappia che il senso della morte implica l'annientamento perlomeno del corpo. Se pensiamo all'Apocalisse di Giovanni, l'Apocalisse di Giovanni allude all'annientamento della terra vecchia e del mare e del cielo vecchi saranno annientati. Quindi non è pensabile, è anche ovvio che è documentato che Petrarca conosce il senso del niente, la morte come annientamento. Vorrei ricordare che in una delle sue prose polemiche Petrarca accusa quell'infame, dice proprio così, quell'infame verso di Persio, Persio poeta. e avremo modo di vedere come i poeti siano costantemente convocati da Petrarca, ma in questo caso il poeta è convocato per essere condannato, altrove vedremo che invece sono convocati per trovare un sostegno in quello che dicono. Ebbene, questo infame verso di Persio, che cosa dice e che cosa è che scandalizza Petrarca? Dice, nel testo latino dice, Gini De Nilo Nil In Nilo Nil Possere Verti che tradotto dice, nulla nasce dal nulla e nulla può tornare nel nulla. E' chiaro che il cristiano Petrarca non può accettare l'affermazione che implica l'impossibilità della creazione divina del mondo dal nulla. Ed è per questo che si oppone a Persio. però questo vuol dire che Petrarca conosce bene la tematica ontologica cioè la riflessione sul senso dell'essere e del niente e che quindi il fatto che in questa pagina del secreto lasci sullo sfondo il concetto della morte come niente è una sarei tentato di dire una situazione dovuta al linguaggio al tentativo di mettere in primo piano le forme immediatamente percepibili dell'orrore del morire però questo orrore diventa veramente radicalmente orrendo se è l'orrore di ciò che va nel niente ecco soffrire nel modo orrendo descritto da Petrarca sapendo che si va nel niente è qualcosa di ben più terribile che non la sofferenza di chi sa che soffrendo poi continua ad esistere ti confesso che mi hai veramente spaventato con tutte queste immagini che mi hai messo davanti possa il dio perdonarmi ma ti assicuro che di giorno rimugino continuamente intorno a questi argomenti e di notte mi sembra di vedere il tartaro mi alzo allora stravolto e dico ahimè che faccio che soffro che cosa mi riserva il destino pietà di me Gesù aiuta questo misero tendimi la tua mano che io possa almeno riposare nella morte in un luogo tranquillo ma fin qui i miei pensieri non mi hanno dato altro che angoscia terrore gli altri godono almeno dei piaceri presenti senza gemiti lamenti e non si pongono il problema della fine mentre per me il termine della vita è avvolto da una tremenda incertezza dovresti rallegrarti di ciò quanto più il peccatore riceve piacere e stimolo dalle sue colpe tanto più è giudicato infelice e disgraziato chi si rende consapevole dei propri errori può sperare nella conversione diversamente da chi non lo è ma perché ti domando di nuovo la consapevolezza dei miei torti e l'intensa meditazione della morte non mi è stata feconda ti rispondo innanzitutto perché tu consideri come lontano quello che sia per l'incertezza sia per la varietà degli accidenti della vita dovrebbe invece essere giudicato non lontano noi vediamo la morte lontana in verità a quasi nessun morituro si può adattare quel verso di Virgilio che dice si era ripromesso la canizia lunghi anni o forse una buona salute e l'osservanza di un regime di vita morigerato ti hanno dato tale speranza no ti prego di non pensare questo mi salvi Dio dal fatto di fidare in ciò so bene che la mia navicella tremula e fragile non può resistere al mare agitato e ai venti furiosi so che non mi resta alcuna speranza di salvezza se l'onnipotente non fa drizzare il timone e toccare terra prima di morire che io possa morire in un porto sicuro dopo aver vissuto in alto mare sono convinto di non essere stato preso dal desiderio smodato di ricchezza o di potere anzi mi ritorna sempre in mente quel verso che avevo scritto da giovani mentre parliamo così la morte s'affretta per innumerevoli vie ed è già forse qui sulla soglia ecco tutto questo ho visto allora e lo vedo adesso che ho accumulato età ed esperienza ma ancora al di là di tutto se i miei pensieri sono veritieri che cos'è che mi trattiene ringrazia il cielo che sei tenuto a freno da così tanti pensieri salutari chi ha una così costante dimestichezza con la vanità dei piaceri e con il pensiero della morte non può essere destinato alla morte eterna ma se senti che ci sono degli ostacoli che ti impediscono di sottrarti al vecchio gioco della schiavitù ti dirò da che cosa sei ancora oppresso voglia il cielo che ciò avvenga che cos'è che ostacola la mia meditazione vedi non nego che la tua anima non sia stata ben formata in cielo ma ti devi convincere che sia corrotta in seguito al contagio del corpo di cui si è rivestita non solo è degradata ma è diventata talmente torpida da non ricordarsi più della propria origine e del suo immenso creatore Virgilio come preso da ispirazione divina scrisse c'è in quelle scintille il fuoco della loro origine celeste finché non sono danneggiate dalla gravosa corporeità e corrotte dagli organi terreni da membra destinate a morire temono e ardono soffrono e godono e non sanno più guardare in alto chiuso nell'oscurità del loro cieco carcere ecco non vedi tu attraverso questi versi le quattro passioni che derivano dalle opinioni fallaci e vengono determinate dall'idea del bene e del male e che sono piacere desiderio paura afflizione non vedi una specie di mostro a quattro teste un nemico dell'umana natura nella prima parte di questo testo emerge con potenza la figura del dubbio non dimentichiamo che Petrarca è un uomo che ha preso gli ordini minori quindi è un uomo di chiesa un uomo che si trova in questa contraddizione tra il suo essere profondamente attaccato ai valori ufficiali della chiesa cattolica la parola cattolico e cattolicità è frequente anche nel secreto e la vicenda centrale della sua vita di cui far accenno anche qui nel secreto cioè l'incontro con Laura la contraddizione è tra un uomo che sa vivere le offerte della terra e soprattutto l'offerta portentosa della donna sa vivere queste offerte ma le vede in contrasto con la propria fede religiosa e queste offerte della terra sono anche le offerte della terra vista dalla poesia perché tratto caratteristico di Petrarca è che la magnificenza della terra e dunque la magnificenza della donna si presenta sempre attraverso la parola poetica ora la parola poetica anche se vedremo in questo testo non è incriminata da Petrarca che anzi la difende a fondo e tuttavia sarà proprio la leva che porterà che porta Petrarca al di fuori anche se non se ne rende conto e non lo riconoscerà mai la poesia sarà proprio la leva che sto dicendo porterà Petrarca o ha portato Petrarca al di fuori della sua fede religiosa ma intanto è chiaro che chi si trova in questa contraddizione non può che dubitare l'incertezza la parola incertezza appare sin dall'inizio di questo testo e il dubbio si riferisce alla verità di ciò in cui Petrarca crede e cioè il dubbio intorno a quella verità che sta silenziosamente ascoltando il dialogo tra Agostino e Petrarca qui vorrei osservare che il tratto di fondo di questa di queste prime parti del secretum il tratto di fondo può essere espresso da una da un motto da una sentenza fondamentale del pensiero poetico filosofico che naturalmente Petrarca conosce bene non è citata da Petrarca ma è espressa potentemente da Petrarca ecco video migliora provoque deteriora sequor che vuol dire vedo ciò che è bene e lo approvo ma seguo ciò che è peggiore ora il dramma o una delle componenti rilevanti decisive del dramma che stiamo seguendo è appunto l'angoscia che dunque non è più quell'angoscia originaria per la morte per il nulla ma è l'angoscia di chi ormai avendo superato l'angoscia arcaica per il nulla con la verità filosofico cristiana e l'angoscia di chi pur avendo davanti meliora le cose migliori e cioè la verità e cioè la salvezza dice non sono capace di agire in modo da adeguarmi a questo che pur riconosco come la verità il salvifico ecco allora il dramma di Petrarca che si prolunga non solo ecco anche oltre questa prima parte del secreto questa situazione del vedere il positivo e non seguirlo porta con sé un interrogativo come è possibile che la verità si mostri e non sia seguita se la verità mi mostrasse concretamente che un mio una mia azione mi porta alla perdizione eterna ma me lo mostrasse in modo irrefutabile ma crediamo forse che io compirei quell'azione che la verità mi mostra condurmi alla perdizione mai più quindi c'è qualcosa qui che non torna intorno a questo concetto di verità che è presente può permettersi di essere silenziosa ma che può essere tradita da una volontà che pur vedendola le volta le spalle quanto coraggio e quanta fiducia hai lo sai che la speranza in chi è malato è indice di guarigione non è in me stesso che ripongo speranze ma in dio giusto ora torno al punto sei assediato da molti pericoli e non ti rendi conto da quanti nemici sei circondato mi sembra che ti stia per accadere quello che di solito succede a chi guarda da lontano un compatto esercito che avanza e si inganna sottovalutandone il numero dei soldati che lo compongono ma lentamente gli cresce la paura man mano che le corti si avvicinano e quando riesce a rendersi conto delle effettive forze del nemico si pente di averle temute meno del dovuto allora quando vedrai davanti e ai tuoi occhi da quanti nemici sei circondato da ogni parte ti vergognerai di averli odiati e temuti meno di quanto avresti dovuto e ti renderai conto per quale motivo il tuo animo assediato da tanti pericoli si sia preoccupato meno del necessario e non sia stato capace di aprirsi un varco tra le file nemiche ti accorgerai solo allora da quanti pensieri nefasti sia stata sconfitta quella meditazione salutare verso la quale sto tentando con tutte le mie forze di condurti sono preso da un profondo spavento se affermi che il pericolo che ho sempre riconosciuto è di gran lunga superiore alla mia stima e che quello che temevo era niente rispetto a quello che avrei dovuto temere allora non mi resta alcuna speranza la disperazione è il peggior male e nessuno vi è arrivato se non troppo presto voglio perciò che tu sappia innanzitutto che non si deve mai disperare di nulla lo sapevo ma la paura me l'ha fatto dimenticare bene ora osservami e con il tuo cuore presta attenzione alle parole di un poeta Virgilio che tu conosci molto bene guarda quali popoli si adunino e quali città sprangate le porte affinino le armi contro di te per lo sterminio dei tuoi guarda dunque quali lacci ti tende il mondo quante vane preoccupazioni ti assillano quante inutili speranze ti circondano innanzitutto per non precipitare dietro di loro ti dovrai ricordare come dall'inizio precipitarono gli spiriti più nobili fra tutte le creature sono davvero innumerevoli le cose che inorgogliscono il tuo animo con le loro ali funeste e lo fiaccano in memore di una fragilità tante volte sperimentata ma anche se le tue qualità fossero superiori alla tua immaginazione tutto questo dovrebbe indurti a imboccare la strada dell'umiltà e non quella della superbia ricordandoti che ti sono state date in sorte non per tuo merito che cosa infatti avrà reso gli animi più obbedienti al loro signore non dico a quello eterno ma a quello temporale se non il rendersi conto che la liberalità del suo signore non era dovuta ad alcun merito personale o le buone azioni faranno in modo di seguire chi avrebbe dovuto precedere così dovrai renderti conto di quanto siano meschine le cose di cui vai ora superbo continuai a seguire attentamente le parole di Agostino tu apprezzi e lodi il tuo ingegno ti vanti della tua cultura ma se vai a fondo potrai osservare come molto spesso non riuscirai ad eguagliare l'abilità di uomini umilissimi troverai anche molti infimi animali di cui non riuscirai a imitarne l'attività vai avanti così vantati e tutto quello che hai letto a chi ti è giovato quanto ti è rimasto dentro che frutti hanno dato le tue letture tutto quello che sai assomiglia a un piccolo ruscello secco paragonato all'immensità dell'oceano che rappresenta tutto quello che ignori ma che importanza può avere imparare le dimensioni del cielo e della terra dei mari delle stelle i segreti della natura se non sapete niente di voi stessi se non avete cura di quello che fate ogni giorno che importanza ha avere imparato le imprese le gesta dei grandi uomini a che ti serve l'eloquenza sei in mezzo a tante parole e non riesci mai a vedere attraverso i tuoi occhi incrostati tanti difetti anche l'applauso di chi ascolta benché non sembri un disprezzabile effetto quanto piacere può dare se l'oratore innanzitutto non piace a se stesso quante volte ti sei lamentato del fatto che con la tua penna non riuscivi a esprimere compiutamente ciò che sentivi cosa rappresenta allora tale eloquenza così limitata e debole che non comprende ogni cosa e quel che comprende non riesce a stringerlo del resto come sai c'è una grande discussione sul primato dell'eloquenza non solo fra noi i greci ma anche tra i nostri sapienti se vuoi il mio parere dico che entrambi hanno ragione sia quelli che dicono che la grecia è povera di parole e quelli che affermano lo sia l'Italia se lo si dice con validi motivi di due paesi così importanti gli altri cosa possono sperare dopo di questo passiamo a un altro punto cosa apprezzi del tuo corpo ti insupervisci della tua forza della tua buona salute ma basta un nulla un morbo una malattia il morso di un verme una corrente d'aria per indebolirlo non ti rammenti quel detto di quel poeta satirico solo la morte rivela quanta poca cosa siano i corpi degli uomini tutti questi venti contrari ti impediscono di considerare l'umiltà della tua condizione e di ricordarti della morte ma ci sono altri punti da discutere è interessante come qui Petrarca in qualche modo contrapponga l'eloquenza alla poesia ancora una volta l'abbiamo sentito in altre occasioni si rifà al detto di un poeta solo la morte rivela quanta poca cosa siano i corpi degli uomini e il problema che vorrei indicare è che quando Petrarca usa la parola eloquenza indica una dimensione che è estremamente vicina alla poesia e allora il problema che uno dei problemi che si presentano in relazione a questo testo è come mai da un lato ci sia la condanna radicale di Agostino dell'eloquenza e dall'altro lato ci sia al solito la valorizzazione del poeta il tratto che vorrei portare alla luce anche per quanto avrò occasione di dire in seguito è che la leva fossero già accennato in precedenza la leva che porta Petrarca sia pure al di là della sua coscienza al di fuori la leva che porta Petrarca al di fuori del cristianesimo è proprio la poesia è proprio la poesia che in quanto tale anticipo qui una tesi che tenterò di giustificare in seguito è proprio la poesia che in quanto tale è una critica è un rifiuto di quei valori ai quali Petrarca crede un'anticipazione del problema è appunto questo rapporto tra eloquenza e poesia per quanto riguarda la paura il testo latino dice Metus delle corti che si avvicinano le corti dei nemici del nemico che lo porta a perdizione e che lo porta lontano dalla verità e vorrei ricordare l'affermazione di Eraclito che dice la sapienza suprema è dire e fare cose vere ora tra il dire e fare cose vere c'è anche per Petrarca la poesia quindi la poesia quando sia intesa non come quell'eloquenza che è un disvalore quando sia separata dalla verità dalla verità ma la poesia in quanto unita alla verità questo è uno dei temi a mio avviso più importanti della nostra lettura del secretum è un tema che è presente in tutta la tradizione classica il rapporto tra poesia la verità in tutta la filosofia in comincio a Platone riprende Aristotele ma poi nel pensiero di Dante nel pensiero di Petrarca e così via si tratta di capire quale sia il rapporto tra questa forma che avvolge la verità e la verità stessa la verità è esigente e vedremo che essa rifiuta di avere accanto a sé un secondo padrone come potrebbe essere la poesia vedo chiaramente come questo mostro mi faccia inorridire vedo come l'animo umano preso dalle passioni si divide in quattro dopo essersi diviso in due parti presente e futuro e dividersi ancora secondo il concetto del bene e del male così travolta da turbini contrari la serenità dell'animo si sgretola e muore vedo come innumerevoli pervense e immagini di cose visibili entrano attraverso i sensi del corpo e come dopo essere passate una a una si addensano in massa nella profondità dell'anima e la pesantiscano e la insudiciano pur non essendo stata creata per questo e non essendo capace di contenere tante cose diverse e difformi e da qui che sorge la peste dei fantasmi stracciando e rompendo i miei pensieri tutti questi fantasmi pestilenziali ostruiscono la strada a quelle illuminanti meditazioni attraverso le quali si sale all'unica e ineffabile luce ecco di tutto questo tu hai parlato nel tuo libro de vera religione e ne hai parlato come di cosa contraria alla religione stessa ho avuto recentemente questo libro tra le mani dopo avere momentaneamente abbandonato la lettura dei filosofi e dei poeti e l'ho letto con grande avidità proprio come uno che con desiderio di conoscere si mette in viaggio e affascinato dai luoghi visitati guarda con estremo interesse tutto quello che gli si para davanti eppure anche se illustrata con parole di tono diverso come è lecito fare a chi espone la verità cattolica ti accorgerai che la dottrina di quel libro è tratta in gran parte dai filosofi e soprattutto da Platone e da Socrate e per non tenerti nascosto nulla ti rivelo che fu una parola una sola parola del tuo Cicerone che mi indusse a cominciare quell'opera Dio volle aiutarmi nell'impresa e in questo modo da pochi semi nacque un ricco raccolto ti supplico carissimo padre di non nascondermi quella parola che ti ha fornito lo spunto per portare a compimento un'opera così grande Cicerone che biasimava gli errori della sua epoca scrive incapaci di vedere con l'animo gli uomini si affidavano agli occhi occorre invece grande intelligenza per staccare la mente dai sensi e volgerla verso cose più degne rispetto al comune pensare ecco su questa frase ho gettato la fondamenta per erigere l'opera che tu affermi di avere tanto apprezzato sì quel passo si trova nelle tuscolane e mi accorgo con piacere che nelle tue opere ritorni più volte su questa frase che racchiude una verità fondamentale ma continua ti prego continua il tuo discorso di prima quando ti riferivi ai fantasmi pestilenziali sono proprio quei fantasmi pestilenziali che ti hanno fatto male e sono quelli che possono rovinarti se non ci poni rimedio le tue visioni ossessive i turbamenti di vario genere combattono senza tregua tra di loro invadendo il tuo fragile animo non sai più districarti in mezzo a una così cruenta battaglia di pensieri desideri aspirazioni tu sei come quelli che mettono troppi semi in uno spazio ristretto le pianticelle che nascono si danneggiano le une con le altre talmente sono strette ecco così succede a te nel tuo animo non mette radice niente di utile non esce alcun frutto sano oscigli sei trascinato qua e là non metti radici in nessun luogo il tuo animo è teso alla generosità ma ogni volta che hai quelle riflessioni che possono portare alla vera vita non riesci ad essere fermo e deciso in un punto saldo e torni continuamente sui tuoi passi in un mare di contraddizioni allora succede che tutti i tuoi propositi salutari si secchino in seguito a tutti quei rovelli dell'anima sempre scontenta di sé è un'anima che ha orrore delle sue macchie ma non le lava conosce il frastagliamento della strada e si ostina a percorrerla avverte il pericolo che incombe su di lei e non lo scansa ah come sono infelice hai messo la mano dentro la piaga ed è lì il mio tormento ed è allora sentendo la mia infelicità che ho paura della morte bene per adesso il tuo torpore è sparito ma per oggi abbiamo parlato anche troppo e ininterrottamente rimandiamo il nostro colloquio ora riposiamoci e stiamo un po' in silenzio oh sì quiete silenzio per le mie stanchezze sono le migliori medicine sono molti i temi di grande rilievo di questo tratto del secreto innanzitutto incomincia a infittirsi il riferimento alla filosofia greca e alla filosofia latina perché Petrarca non esita a dichiarare che il suo grande ispiratore è Cicerone certamente Petrarca qui è in colloquio con Agostino Agostino è in grande colloquio con Platone e con Socrate però Petrarca intende realizzare una simbiosi tra la cultura latina e la propria coscienza religiosa e ci stiamo cioè avvicinando verso la zona dove il tratto poetico letterario giocherà un ruolo decisivo intanto tentiamo di seguire questi riferimenti che a volte sono anche impropri perché in una precedente puntata il riferimento agli stoici che vi è fatto da Petrarca poteva essere il riferimento a tutta la filosofia a quello che dicono gli stoici a proposito della morte e cioè che la verità a essere il vero rimedio della morte non è proprio degli stoici ma di tutta la filosofia ora per quanto riguarda il rapporto con Platone ed è certamente un rapporto privilegiato va forse la pena di sottolineare la lettura spiritualistica che Petrarca fa di Platone è una lettura che spesso viene condivisa anche recentemente per la quale il pensiero di Platone sarebbe una sorta di ascesi che porta lontano dal corpo dai sensi dalla terra e privilegia gli aspetti spirituali dell'uomo ora questo è il Platone letto dal punto di vista dell'ascesi cristiana e quando Platone parla del corpo come ostacolo per la conoscenza della verità e parla del corpo in quanto sia conosciuto e vissuto indipendentemente dalla verità perché se il corporeo è visto unito alla verità allora è Platone il primo a parlare dell'amore anche dell'amore erotico come via che conduce la verità quindi questa via è tutt'altro che irrilevante tutt'altro che disprezzabile è proprio la condizione affinché si possa accedere al senso concreto della verità e dell'amare questo resta confermato anche da alcuni passi straordinari di Platone è un peccato che questo atteggiamento di Platone sia poco ricordato mi riferisco a quei passi straordinari dove Platone dice ma anche la virtù e Petrarca non lo ricorderà questo anche la virtù anche la benevolenza l'amicizia non sono vere virtù se non sono legate alla verità è una proposizione tautologica ma questo vuol dire che come Platone solleva il corpo in una dimensione positiva quando è in relazione alla verità così respinge le virtù quando esse siano isolate dalla verità quindi la verità è ciò che determina l'autenticità di tutte le figure terrene vorrei aggiungere che varrebbe la pena di fissare l'attenzione su ciò che Petrarca in questo tratto chiama fantasmi pestilenziali di cui è rimproverato però questi fantasmi pestilenziali che lo trascinano di qua e di là non sono qualcosa che Petrarca sperimenta laddove gli altri uomini non li sperimenterebbero questi fantasmi che sono poi il piacere la voglia di godere la voglia di mangiare di bere di godere la femmina questi sono gli aspetti con i quali vincere il nemico e avere ricchezza ecco questi sono gli aspetti con i quali l'uomo ha sempre tentato impropriamente dal punto di vista del mito della filosofia l'uomo ha sempre tentato di salvarsi e quelli che noi chiamiamo piaceri malvagità eccetera sono viste in questa prospettiva ultima e sono i tentativi di rimediare la propria situazione infelice se godo e purtroppo il godere di un singolo è l'infelicità dell'altro se godo è per riuscire a sopravvivere quindi anche questi aspetti che possono sembrare da buttare via da dimenticare appartengono alla logica del rimedio e è in questa logica che vanno intesi fermati un attimo ti scongiuro altrimenti preso da tante questioni non sarò più capace di riprendermi e di risponderti va bene mi fermo un attimo mi hai meravigliato rinfacciandomi molte colpe che non mi sono mai sognato di commettere io non ho mai riposto fiducia nel mio ingegno non mi sono mai insupervito attraverso la lettura dei libri e per quello che ho scritto sono sempre stato consapevole di essere piccolo se ho avuto un qualche valore ciò era dovuto più all'ignoranza altrui che ai miei meriti che cosa mi hanno dato di buono l'ingegno la scienza l'eloquenza se non hanno fornito rimedio ai mali che torturano il mio animo per quanto riguarda i beni corporali le tue affermazioni mi hanno fatto quasi ridere ma se mi accorgo continuamente della quotidiana rovina di questo corpo sì lo ammetto da ragazzo mi sono preoccupato di arricciarmi i capelli di avbellire il volto ma oggi vado sperimentando in pratica quelle parole del principe domiziano che rivolgendosi ad un amico scriveva sappi che niente è più amabile e niente è più breve della bellezza preferisco che sia la tua coscienza e non le mie parole a farti provare vergogna non ti estorcerò la verità come fanno gli inquisitori non ti farò confessare a forza quello che dici di non aver commesso ti invito solamente a ripetere dentro di te quel detto filosofico di Seneca sono stato creato per qualcosa di meglio che essere servo del mio corpo voi amate il vostro carcere vi date da fare per abbellirlo vi affezionate a lui e non tendete l'orecchio a chi vi potrà liberare da questa prigione nella tua Africa il padre di Scipione dice odiamo i lacci che ci impediscono la libertà tu dovresti dire a te stesso quello che fai dire ad altri ma c'è un'altra cosa una forma di superbia in te non mi pare di aver peccato di superbia in che cosa sarei stato superbo il disprezzo degli altri è molto più arrogante che l'esaltazione di se stessi avrei preferito che tu avessi lodato gli altri pur considerandoti il migliore piuttosto che svilire tutti e ripararti dietro un falso scudo di umiltà costruito sul disprezzo altrui giudica come vuoi io non ho considerazione né di me né degli altri disprezzare se stessi è la strada più sicura mentre odiare gli altri è pericoloso è inutile di quello che vuoi basta che non mi accusi di invidia no sei immune da tale peccato sono altre le cose che devo dirti allora che cos'è che mi ha fatto andare fuori strada il desiderio dei beni terreni tutto questo è assurdo non offenderti eppure non ti ho accusato di invidia ma di avarizia eppure non c'è cosa più lontana da me di questa ti giustifichi troppo non sei dunque così immune come pensi neppure dall'ambizione e va bene vai fino in fondo qual è il colpo che mi vuoi infliggere assolvi compiutamente il tuo mestiere di accusatore ritorno in questa sequenza del secretum di Petrarch la critica del corporeo e la critica della bellezza teniamo presente che Petrarch presenterà le sue poesie come qualche cosa che deve essere perdonato che deve essere scusato queste poesie potremmo dire quasi 400 poesie o forse poco meno che sono dedicate alla bellezza di Laura il singolare o forse se possiamo permettercelo l'inconscio di questo atteggiamento di Petrarch è che da un lato considera il corpo e la bellezza del corpo come qualche cosa da cui si deve fuggire dall'altro lato dedica gran parte della sua vita a esaltare nel modo più splendido perché la poesia di Petrarch raggiunge indubbiamente queste vette a esaltare la bellezza di Laura ora non si tratta semplicemente della bellezza fisica di Laura punto e basta no si tratta della bellezza di Laura in quanto cantata cioè in quanto espressa dalla poesia possiamo forse avvicinarci a questo concetto che la poesia ha una bellezza di cui Petrarch non parla e a mio avviso non parla di questa bellezza perché si avvede o sospetta che in questa bellezza ci sia il pericolo per le sue convinzioni religiose dall'altro lato ecco in modo esplicito critica la bellezza del corpo e vede nella bellezza del corpo uno dei principali ostacoli per la salvezza eterna qui il corpo è condannato in quanto posto come scopo avremo occasione di vedere tra non molto questo gioco di cui Petrarch è pienamente consapevole tra mezzo e scopo la condanna del corporeo avviene quando il corpo si è inteso come scopo della vita e cosa del tutto diversa se il corpo invece è un mezzo che conduce alla come dicevo in un'altra puntata è un mezzo che conduce alla salvezza alla felicità comunque quanto qui si trattava di sottolineare è che lo stesso secreto questa stessa sequenza linguistica che abbiamo sentito lo stesso secreto è una forma di quell'ingegno scienza eloquenza che vengono messi in questione nella prima parte che abbiamo ascoltato oggi dove si dice che cosa mi hanno dato di buono l'ingegno la scienza l'eloquenza se non hanno fornito rimedio ai mali che torturano il mio animo e cioè anche qui il pensiero di Petrarca nomina una parola rimedio che è una grande protagonista nella storia dei mortali ecco dico mortali non dico semplicemente della filosofia la filosofia sta al fondo di tutto ciò che l'uomo è credere che la filosofia sia là nelle nubi significa non capire che la filosofia alimenta tutta la nostra storia ma comunque anche questa parola rimedio è una parola usata in grande da un uomo che per lo più è considerato come massimo poeta mi riferisco ad Eschilo ma che si dovrebbe imparare a considerare anche come massimo pensatore Eschilo parla appunto dei sommi rimedi che sono costituiti dalla sapienza dalla sapienza quando Petrarca usa la parola rimedio è perché la riceve probabilmente da Seneca giacché ecco i grandi tragici e il tragico Eschilo appartengono lo vediamo meglio nel seguito appartengono a una dimensione da cui Petrarca si tiene lontano la tragedia era anche una parola che era stata evitata da Dante Dante scrive una commedia che Boccaccio definirà di divina ma c'è un motivo perché l'azione tragica della commedia come espressioni poetiche di Petrarca intendono tenersi al di fuori del pericolo anticristiano di una tragedia la quale come dice Platone si arrende al dolore no qui il problema è una cattiva interpretazione è una grande cattiva interpretazione della tragedia ma si tratta di capire che Petrarca si tiene lontano dalla tragedia perché invece da cristiano intende uscire dal dolore fai come quel poeta comico Terenzio che dice chi afferma il vero è un accusatore oppure l'adulazione procura amici la verità odio ma allora perché questi affanni e preoccupazioni che ti rodono l'anima dovevi fare progetti così lunghi in una vita così breve non si possono nutrire lunghe speranze durante un'esistenza così breve tu leggi molte cose ma non ne tieni conto a che ti serve morire a volto in coperte di porpora ed essere sepolto in una tomba di marmo lasciare che la tua eredità sia motivo di contesa fra gli eredi perché ti affanni perché ti affliggi la tua ricchezza dipende dalla tua propria natura che si accontenterà di poco e non verrà trascinata dalla tempesta dei desideri ti ricordi quando ascoltavi la natura il mormorio delle sue acque sdraiato sull'erba dei prati dalle ariose colline lo sguardo vagava sino la pianura sottostante talvolta in preda un dolce soppore ti beavi del silenzio tanto desiderato non stavi mai in ozio sempre intento a pensare a qualcosa di profondo mai solo sempre in compagnia delle muse simile al vecchio di virgilio che uguagliava nell'animo le ricchezze dei re e tornando a tarda notte riempiva il tavolo di vivande donate anche tu tornando al crepuscolo nella tua casetta felice di ciò che avevi ti sentivi il più ricco degli uomini e persino il più contento insomma ti accontentavi di quello che avevi sì me lo ricordo e sospiro sospiri ma se sei stato tu ad andare incontro a tutti i tuoi guai tu hai voluto vivere nel tumulto della città abbandonando la vita semplice quando eri adolescente non eri toccato da nessuna ambizione ora che hai cambiato abitudini guarda quanto sei infelice accumuli accumuli ricchezze giorno per giorno fino a quando con la vecchiaia non cresceranno più e poi verrà la morte ma perché mi critichi tanto prevedendo appunto le difficoltà della vecchiaia ho ammucchiato un po' di scorte per quando sarò troppo stanco e senza forze ridicolo assurdo pensare ansiosamente a un tempo che forse non arriverà mai e anche se arrivasse ci resteresti per poco la vostra più brutta abitudine è questa cercare l'effimero e trascurare l'eterno non ti dico d'amare la povertà ma di usare come in tutte le cose il giusto mezzo non ti dico di distruggere la tua natura ma di tenerla a meno a freno quello che avevi bastava per le tue necessità ma ora soffri di un altro tipo di povertà che tu stesso ti sei procurato accumulare ricchezze significa riempirsi di bisogni e di preoccupazioni non ti accorgi che la tua mente ha abbandonato i nobili pensieri e si è rivolta verso desideri volgari non ti accorgi che sei precipitato dal cielo alla terra che sei stato indiottito in una profonda voragine sì me ne sono accorto e mi sembra che l'urto di questa caduta sia stato molto violento allora perché non punti piedi e non cerchi di elevarti per raggiungere le sfere superiori una volta la facevi per gran parte del tuo tempo ora invece lo fai ineritagli di tempo perché tutto il resto lo sprechi per cose spregevoli eppure guardalo l'uomo non ha volontà è insicuro contemporaneamente del presente del passato e del futuro è esposto a mille generi di morte dopo aver trascorso una vita che è come un soffio di vento le tue considerazioni mi fanno quasi pentire di essere nato uomo c'è una lettera estremamente interessante che Petrarca scrive a boccaccio il quale gli aveva fatto dono di una copia della divina commedia di Dante è una lettera molto discussa perché sembra che Petrarca non renda a Cesare quel che dice già in questo caso Cesare e Dante dove tra le molte cose di grande interesse che Petrarca dice all'amico Giovanni c'è anche quella relativa alla lingua volgare di Dante al volgare all'italiano cioè al volgare di Dante e al proprio volgare in sostanza Petrarca dice come puoi pensare che io non apprezzi Dante se in tutta la mia giovinezza io ho scritto proprio in quel volgare al quale Dante dedicherà in qualche modo tutta la sua vita che è interessantissimo perché Petrarca sta dicendo che lui da giovane ha scritto in quel volgare in cui poi Dante si è inabissato e si è conchiuso la sequenza allora in Petrarca è curioso anche in molti altri poeti come Leopardi la sequenza è di individui i quali dicono io da prima sono stato poeta e poi sono diventato filosofo e la mia poesia se ho continuato ad essere poeta è stata una poesia alta più volte abbiamo sentito in queste pagine di Petrarca citare l'Africa l'Africa che indubbiamente è un grande poema una grande esperienza linguistica ma che non può gareggiare con le liriche scritte in volgare in volgare da Petrarca ebbene la sequenza è dal periodo giovanile alla maturità in cui ci si lascia alle spalle quella relativa superficialità la parola è un po' forte che si può attribuire a un'espressione fatta in lingua volgare ora il curioso del passo che noi abbiamo letto qui è che il passo non quadra con quanto abbiamo rilevato e questo non quadrare è di estremo interesse perché se l'ascoltatore ricorda quanto è stato letto ricorderà che a un certo momento Agostino dice ti ricordi quando ascoltavi la natura il mormorio delle acque sdraiato sull'erba dei prati quando seduto all'ombra di un albero situato in una valle armoniosa ti beavi e poi eccetera e poi dice quando in compagnia delle sole muse non eri ozioso e avevi pensieri profondi dunque i pensieri profondi che poi vengono chiamati nobili pensieri che vengono contrapposti ai desideri volgari ecco qui la parola volgare serve a disegnare un improprio desiderare ora il curioso è che questa dimensione alta che viene approvata da Agostino questa dimensione alta è la situazione in cui Petrarca è in compagnia delle sole muse cioè qui il testo sta dicendo proprio l'opposto di quanto ufficialmente pubblicamente Petrarca dice quando dice io in giovinezza mi sono sì indugiato nella dimensione poetico volgare ora sono sapiente ora scrivo in latino ora scrivo l'Africa e qui invece accade proprio il contrario e cioè Agostino invita Petrarca a ricordarsi del tempo della poesia come tempo nobile come nobile pensiero come ciò che ha lasciato si è lasciato indietro qui tra le contraddizioni stupende di Petrarca c'è questo considerare il proprio passato poetico come qualcosa che appartiene al mondano e che dunque deve essere lasciato da parte e dall'altro lato invece emerge precotentemente questo riconoscimento della compagnia delle sole muse in tanta miseria dunque tu vorresti tanta ricchezza e potenza che non fu neanche mai accumulata dalcun cesare e dalcun re ma chi ha parlato di ricchezza e potenza la maggior ricchezza è non aver mai bisogno i re e i signori della terra anche se ricchissimi hanno bisogno di tantissime cose e come te sono soggetti al gioco della fortuna vinci le passioni sottomettiti al comando della virtù solo allora sarai felice e non avrai bisogno di niente non ti parlerò del peccato della gola dal quale saresti immune se tale peccato non si insinuasse nelle riunioni conviviali con gli amici tralascio anche l'ira perché se talvolta ti infiammi più dell'ecito subito il tuo carattere mite frena gli eccessi del tuo animo come dice Orazio l'ira è una breve pazzia governa il tuo animo che se non obbedisce prevale tienilo stretto come alla catena sono pronto a riconoscere che tali versi mi hanno influenzato come moltissime massime dei filosofi soprattutto però ma convinto la brevità della vita che senso ha infatti trascorrere i pochi giorni che passiamo tra gli esseri umani facendo loro del male verrà la fine del mondo a spegnere tali passioni nei cuori degli uomini il nostro desiderio criminale infatti tali peccati li tralascio e volgo la mia attenzione verso quelli più pericolosi che rimane di ancora più pericoloso ti accendono le fiamme della lussuria a volte in modo insostenibile tant'è vero che preferirei essere insensibile piuttosto che venire scosso dai turbamenti della carne ecco qualcosa che ti distrai dalla meditazione su dio infatti platone ci insegna che l'anima deve essere tenuta lontana dalle volutà del corpo affinché possa salire libera e pura alla contemplazione dei misteri della divinità alla quale è legato il pensiero della propria caducità non a caso i libri di platone ti sono familiari sovente piangendo ho sperato di ritrovarmi in salvo spezzata la schiavitù dei desideri e vinti gli affanni della vita come se scampassi a nuoto in un porto a riparo da tante procelle di inutili affanni ma tu lo sai quante volte poi sono naufragato sui medesimi scogli e quante volte ancora lo farei se fossi abbandonato a me stesso ma aiutati da solo appoggiati prima su un gomito come fanno coloro che cadono osserva i mali che ti assalgono al fine di evitare che le stanche membra non reggano l'urto e nel frattempo non smettere di chiedere aiuto a colui che può dartelo ricorda Platone nulla impedisce la conoscenza della divinità più degli appetiti carnali e dell'ardore della libidine lo sai che ho davvero sempre amato Platone comunque tu sei vittima di una tremenda malattia dello spirito che i moderni chiamano acidia e gli antichi egritudo conosci bene il tuo male non rattristarti impara ad essere contento della tua sorte vedendo quella degli altri non tutti nella vita possono occupare il primo posto altrimenti non ci sarebbe un primo se non ci fosse un secondo sei fortunato se fino ad ora sei stato colpito da avversità piuttosto modeste ognuno si dimentica della propria sorte e pensa solo ad occupare le prime file ma se gli uomini conoscessero le miserie di coloro che occupano le più elevate posizioni rinuncerebbero alle loro aspirazioni la sorte di quelli che stanno in alto è faticosa piena di pene di preoccupazioni segui il consiglio di Seneca quando vedi quelli che ti stanno davanti osserva quelli che ti stanno dietro o fissa un termine che tu non possa oltrepassare anche se lo puoi all'inizio di questo tratto del discorso del secretum compare la parola virtù e indubbiamente è una delle parole che contribuiscono a rendere il discorso di Petrarca un qualche cosa di vicino alla dimensione della devozione dell'edificazione nel significato però direi ridotto della parola edificazione la parola edificazione è grande perché significa edes facere fare case però ha un significato più depotenziato in cui allude alla devozione dell'uomo che in questo caso è l'uomo di chiesa e che traspare in tutto il secreto anche se in qualche modo l'aspetto chiesastico dico questa parola tra virgolette è attutito dallo splendore della lingua latina ebbene la parola virtù è una di quelle che possono far pensare a quella sorta di melassa che spesso accompagna il concetto di virtù di bontà e che oggi è prevalente nel nostro modo di parlare e invece anche qui la melassa se vogliamo insistere sulla metafora si costruisce su grandi significati in greco virtù si dice arete e sia la parola greca arete sia la parola virtù alludono innanzitutto alla potenza quando l'uomo intende salvarsi dal dolore si salva dal dolore alleandosi alla potenza suprema che è il divino e certamente la filosofia lo fa in modo diverso dal mito perché la filosofia intende stabilire questa alleanza all'interno della verità detto tra parentesi se non ci intenderemo sul significato autentico della parola verità non capiremo nulla non solo della storia della filosofia ma nemmeno della storia dell'occidente si tratterà quindi per chi vorrà farlo di interessarsi sul senso radicale di verità per la quale verità significa l'apertura di una dimensione che non può essere in alcun modo smentita ebbene la virtù non è melassa perché e la parola greca arete e la parola latina virtus alludono alla potenza che consente di allearsi alla potenza suprema o addirittura lo stato di alleanza la parola poi è anche aristotelica l'etica nicomaco aristotele introduce il concetto di virtù per indicare appunto il comportamento dell'uomo che si adegua all'ordinamento veritativo divino del mondo quando parliamo di etica nel senso aristotelico intendiamo dire l'adeguazione dell'individuo al senso vero del mondo svelato dal pensiero filosofico e quando parliamo di politica intendiamo dire l'adeguazione dello stato al vero senso della realtà svelato da capo dal sapere filosofico oggi si parla di crisi della filosofia e tutti magari alzano le spalle o molti alzano le spalle poi si parla di crisi della politica e pochi alzano le spalle si preoccupano ma non capiscono che la politica è figlia legittima come l'etica è figlia legittima della filosofia e quindi la crisi del sapere filosofico porta con sé trascina via con sé anche la politica quindi per capire che cosa significa crisi della politica bisogna risalire alla radice cioè pensare che cos'è la crisi della filosofia ebbene dicevo che la virtù è una delle parole che compaiono nell'etica aristotelica è interessante parlare qui di Aristotele perché c'è tutta una una composizione di Petrarca che è dedicata a quattro suoi amici veneziani probabilmente averroisti ma indubitabilmente aristotelici sventati forse giovanilmente arroganti contro i quali egli scrive un trattato per mostrare il proprio rapporto con Aristotele e quindi col concetto aristotelico di virtù c'è un passo in questo scritto dove Aristotele in sostanza è messo da parte perché detto in poche parole in parole semplici perché antepone il vero al bene il testo che potremmo tenere presente è suona così secondo i sapienti oggetto della volontà è il bene oggetto dell'intelletto il vero ma è più saggio volere il bene che conoscere il vero perché il bene non è mai scarso di meriti il vero invece spesso è in colpa ma non ha giustificazioni e sta appunto parlando di Aristotele ora quello che Aristotele potrebbe rispondere è analogo a quanto dicevamo a proposito di Platone che qualifica come non virtù la virtù non vera perché qui Petrarca ci sta dicendo che il vero è un disvalore rispetto al bene ma allora Platone insieme a Aristotele potrebbero dire ma questo bene che non è vero che bene è qual è il valore di questo bene che tu Petrarca preferisci al vero se è un qualche cosa che si costituisce indipendentemente dal vero certo Petrarca ha grandi cognizioni filosofiche in questo scritto dimostra di conoscere per l'ereo etica Nicomachea di Aristotele le citazioni che riguardano la metafisica sono un po' sbilenche però Petrarca nonostante queste sue conoscenze non può competere su questo punto non può avanzare alla propria prospettiva filosofica in modo incisivo di fronte a un pensiero come quello aristotelico chiamo ancora testimonio la verità lei sa che detestando una vita piena di preoccupazioni di affanni con il mio buonsenso ho sempre privilegiato una condizione media e ho tenuto sempre presente quel detto di Orazio che dice chi ama Laura mediocrità è sicuro di evitare la sordida miseria di una catapecchia ed evita nella sua modestia una dimora che susciti invidia e ancora l'alto pino è agitato più spesso dai venti le torri eccelse crollano con maggiore rovina e i fulmini colpiscono le cime dei monti e allora visto che da tempo godi di quest'aura mediocrità perché per molti sei più da invidiare che da compatire ma non mi sembra che sia così in realtà tu vedi quello che i tuoi occhi vogliono vedere se guardi bene indietro ti accorcerai che sei più vicino alle prime file che alle ultime ma ma il tuo orgoglio non ti permette di orientare la tua vista in modo giusto e invece qualche volta li ho girati gli occhi e mi sono accorto che molti erano davanti a me ma non mi vergogno della mia sorte quello che non sopporto è questa continua ansietà che come Orazio mi fa dire sto sospeso tra gli alti e i bassi dell'insicurezza verso un futuro incerto magari mi toccasse in sorte di morire in porto dopo aver vissuto tra il mare in tempesta ma che cosa pretendi sai perché ti lamenti continuamente della tua sorte perché ti manca la vera libertà che consiste nel renderti conto che sei nato uomo ricordati delle rovine umane di come sono crollati i regni di tutti i tempi non indugiare troppo certe malattie del corpo e dell'anima devono essere curati in tempo se ci si vuole salvare non sia liberi se non si frenano con la ragione i violenti impeti dell'animo come ad esempio l'ira che distrugge l'anima e il corpo insieme guarda di trovare sempre qualcosa di efficace contro l'ira e contro le passioni e quando ti imbatti nelle tue letture in uno scritto utile sottolinealo con note evidenti come se fossero uncini con i quali li fissi nella memoria e non farli andar via se potessi mettere in pratica tutto quello che ho letto chi potrebbe descrivere in modo adeguato la noia e il quotidiano fastidio della vita nella più tetra e informe città della terra strade puzzolenti scrofe immonde mischiate a cani rabbiosi un rumore assordante di ruote che fa scuotere i muri carri che sfrecciano per viuzzi anguste tante diverse razze di uomini disgustosi spettacoli di mendicanti pazzie dei ricchi i primi sprofondati nella loro miseria quest'ultimi che sguazzano nei piaceri lascivi ammassi di gente che si cozzano tra di loro tutto questo mi toglie la quiete la tranquillità sono come una nave alla deriva e ho l'impressione quando mi guardo attorno di essere sprofondato vivo nell'inferno allora mi dico vai ora a fare qualcosa di buono vai ora e componi versi melodiosi proprio questo verso di Orazio mi fa comprendere di cosa ti lamenti anche tu hai espresso il medesimo pensiero quando hai scritto alle muse piace la selva la città è ostile ai poeti quest'ultima affermazione di Petrarca alle muse piace la selva la città è ostile ai poeti può sembrare un'idiosincrasia dell'uomo Petrarca ma ha al proprio fondamento una situazione di grande importanza Petrarca non è l'uomo della città non è l'uomo della polis ci viene subito in mente Socrate quale quelle rare volte che si porta in campagna dice di non poter vivere al di fuori delle mura della città invece Petrarca odia la città in qualche modo potremmo dire anche che da quanto emerge nel secretum non è che abbia molta simpatia per il prossimo cioè è molto diverso dallo zoon politikon cioè dall'animale politico di cui parla Aristote dico che questa situazione questo tratto è di grande importanza perché d'altra parte ci sono le muse c'è la selva che ancora una volta come abbiamo visto in precedenza vengono ricordate come il momento autentico al quale ci si deve riferire le muse sono la poesia quando qualche puntata fa parlavamo del mito avremmo potuto integrare quel discorso con quanto ora vorrei accennare il momento culminante del mito è la festa cioè nella festa l'uomo del mito raggiunge quella dimensione che oggi noi potremmo qualificare paradisiaca la festa è una situazione in cui il gruppo umano quello che poi sarà appunto la città la polis è la situazione in cui il gruppo umano non compie nessuna delle operazioni che vengono compiute normalmente non caccia non combatte il nemico non semina non raccoglie non si unisce alla femmina eppure nello stesso tempo fa tutto questo in che senso nel senso che la festa è il sollevarsi dell'immagine in cui l'uomo festivo si colloca dell'immagine che proprio in quanto è sollevata librata e quindi liberata rispetto alla vita reale pericolosa terribile orrenda morte dolore in quanto sollevata è il rimedio non per nulla quando incomincia la filosofia a parlare e si dice teoria filosofica ma la parola teoria inizialmente significa festa la parola teoria teoria significa la contemplazione festiva ora il tratto a mio avviso di grande importanza per quanto riguarda Petrarca è il carattere tutto diverso di festività che egli porta alla luce non è la festa della città odia la città avremo modo di sentirlo anche come lo dice nelle sue poesie l'abbiamo appena sentito e ribadito sta lontano dalla città odia la città ma questo non vuol dire una rinuncia alla festa in quanto tale è sì una rinuncia alla festa arcaica e dunque cristiana perché la festa cristiana non è la festa dell'individuo ma è la festa della societas però da parte di Petrarca non c'è la rinuncia al festivo c'è la concentrazione del festivo nel momento poetico che significato ha questo perché nella festa arcaica tutto ciò che poi vive separatamente e si realizza in un magma unitario che cosa vive separatamente poi la danza il rito il canto la musica la sapienza la filosofia la saggezza tutti questi sono gli elementi separati della festa tra cui dunque c'è anche il canto e la poesia il canto e la musica in Petrarca il festivo diventa la poesia concepita non come il canto del poeta che incita l'esercito alla battaglia e dove quindi la poesia è poesia è produzione di azione ma come il canto che si distacca dalle iniziative della città e che d'altra parte funge da rimedio allora se starà in piedi questa tesi che vado proponendo per cui al di là del cristianesimo di Petrarca c'è il suo sottofondo il sottofondo del suo pensare per cui il vero rimedio è la poesia allora questo tratto della poesia come autentico elemento festivo diventa decisivo passa la nave mia colma d'oblio per aspro mar a mezzanotte il verno in frascille cariti e al governo siede il signore anzi il nemico mio a ciascun remo un pensèr pronto e rio che la tempesta e il fin par cabbia scherno la vela rompe un vento umido eterno di sospir di speranze e di desio pioggia di lacrimar nebbia di sdegni bagna e rallenta le già stanche sarte che son d'error con ignoranzia a torto c'è l'ansidua miei dolci usati segni morta fra l'onde e la ragione e l'arte tal chi incomincia a desperar del porto non lasciarti prendere dalla disperazione e considera che tutto sommato il cielo ti ha anche concesso molte cose che possono darti motivo di conforto e di gioia in mezzo a tanti che si lamentano non ti lamentare sempre ebbene se ti accorgi di non essere vissuto in modo indipendente e che odi il caos della città ti consiglio di rivolgere il tuo sguardo dentro di te e ti accorcerai che sei caduto in questa trappola di tua volontà e se veramente comincerai a volerlo potrai uscirne attraverso un lungo esercizio ti accorgerai con il tempo che il rumore della folla sarà come quella dell'acqua che cade i tumulti del tuo cuore si acqueteranno quello che adesso giudichi un turbine domani sarà come una dolce nube vagante che avvolge l'animo sereno e tranquillo allora potrai startene seduto sulla riva a guardare il naufragio degli altri sentendo le loro grida sarai preso da una profonda compassione unita alla gioia di aver abbandonato ogni tristezza dal tuo animo per quanto ci siano molte obiezioni che mi inducano a ribattere come quella che si riferisce al fatto che abbandonare la città mi sia facile come se dipendesse dalla mia sola volontà tuttavia dal momento che in molti punti mi hai vinto con il ragionamento voglio anche in questo caso abbandonare le armi prima di essere travolto una volta abbandonata la tristezza puoi dunque riconciliarti con la tua fortuna potrei solo nel caso che la fortuna valesse qualcosa ma tu sai bene che intorno a questo argomento c'è una discordanza di veduta tra Omero e Virgilio dal momento che quello nelle sue opere non la nomina mai mentre il nostro la definisce addirittura onnipotente con questo giudizio concorde un grande storico e un illustre oratore crispo sallustio dichiara infatti che la fortuna domina in ogni circostanza e Marco Tullio Cicerone non esita ad affermare che è padrone delle vicende umane quello che poi penso io forse lo esporrò in un altro momento in un altro scritto per quanto riguarda il nostro argomento le tue esortazioni mi sono state utili al punto che se mi paragono con la maggior parte degli uomini la mia situazione non mi appare poi così misera come prima chi ha ascoltato queste sequenze del discorso di Petrarca avverte la discrasia la differente altezza di tono che c'è tra il sonetto con cui abbiamo incominciato e il testo di prosa del secreto il sonetto è straordinario il testo di prosa fa delle volte venire il dubbio che questo secretum non sia abbastanza un segreto che Petrarca vuole trattenere presso di sé ma abbia tutti quegli accorgimenti che lo rendano adatto a una pubblica lettura e fermiamoci un poco sul sonetto è anche interessante il fatto che i titoli di questi brani poetici siano ma questo avviene in tutta la storia della poesia siano chiamati sonetti canzoni canti e cioè sono tutte espressioni che alludono alla musica quando Petrarca parla della sua nave colma d'oblio si riferisce all'oblio della verità Petrarca in questo momento dice di essersi dimenticato della verità però è chiaro che uno che afferma di essersi dimenticato della verità la verità la ben presente e allora questa è anche la condizione della poesia di essere coscienza della dimenticanza della verità e dunque di essere qualcosa che porta al di fuori della condizione negativa che si produce quando la verità è stata dimenticata qui la tempesta di cui si parla è il pericolo costituito dalla dimenticanza della verità o dall'incapacità di agire conformemente alla verità è notevole anche che la poesia qui consideri da capo l'errore e l'ignoranza che avvolge il poeta e quindi questa considerazione del negativo porta oltre il negativo però immediatamente dopo la poesia rimpiange il celarsi di quei due dolci usati segni che sono verosimilmente gli occhi di Laura e aggiunge che sia la ragione che l'arte sono morte ecco la poesia canta la morte della ragione e dell'arte e poi lo spegnersi degli occhi di Laura Laura muore a un certo momento e il canzoniere di Petrarca è diviso in due parti una in vita e l'altra in morte di Laura questa donna stupenda su cui avremo modo di soffermarsi ma stavo dicendo la poesia canta la morte e dell'amata e della ragione e dell'arte ma proprio il fatto di cantare la morte fa sì che ci si ponga oltre la morte e questo è un tema che Leopardi porterà alla luce con estrema esplicitezza anche se in Petrarca è praticato questo tema Petrarca non riflette su questo tema non riflette cioè sulla non riflette esplicitamente o almeno con l'esplicitezza che è propria di Leopardi sulla circostanza che ecco come avevamo detto una volta precedente la festa autentica è la festa poetica e potremmo anche dire la liturgia poetica va imponendosi sulla liturgia religiosa visto che abbiamo accennato più volte a Leopardi e c'è un motivo perché Leopardi si colloca agli antipodi di un pensiero come quello di Petrarca e di Dante e allora in proposito vale la pena di sentire che cosa afferma Leopardi in uno dei pensieri più radicali più importanti del cosiddetto Zibaldone io preferisco chiamarlo pensieri come secondo che suggeriva Leopardi pensieri di letteratura di filosofia leggiamo qualcosa di questo testo che risale al 1820 hanno questo di proprio le opere di genio che quando anche rappresentino al vivo la nullità delle cose quando anche dimostrino evidentemente e facciano sentire l'inevitabile infelicità della vita quando anche esprimano la più terribile disperazione tuttavia ad un'anima grande che si trovi anche in uno stato estremo di abbattimento disinganno servono sempre di consolazione la grande poesia ormai oltrepassata la dimensione culturale in cui si trova il medioevo di Petrarca e a maggior ragione il medioevo di Dante la grande poesia ormai non può più e avremo occasione di ribadirlo non può più rivolgersi alla verità che la tradizione filosofica o cristiana ha portato alla luce quindi viene a mancare quel rimedio cui accennavamo mi pare che dicessi anche parlassi di Eschilo Eschilo nelle supplici parla di topan mecar il sommo rimedio ebbene la poesia non può più essere consolatrice in quanto espressione del sommo rimedio divino filosofico e quindi rimane come potenza salvifica quella che potremmo chiamare la forma poetica ecco perché Leopardi dice che le opere di genio le opere del genio genio è dal latino gigno gigno vuol dire produttore anche la poesia la parola poesia viene dal creco poiesis che vuol dire produzione ecco il grande produttore il genio ha questo che anche quando vede la nullità e l'infelicità delle cose è il caso a cui ci stiamo riferendo a proposito del passa la nave mia di Petrarca ebbene quando e anche se il genio vede e proprio perché il genio vede la nullità delle cose è proprio per questo la potenza con cui vede la nullità delle cose consente di sollevarsi di librarsi ecco in modo festivo al di sopra di esse al di sopra del nulla tu sei ancora legato da due catene a destra e a sinistra che non ti permettono di meditare né sulla morte né sulla vita ho sempre temuto che ti portassero alla perdizione cosa dici ancora due catene mi legano l'anima le conosco e come se le conosci ma sedotto dalla loro bellezza le ritieni non catene ma ricchezze sei come quello che legato con catene e ceppi d'oro guarda solo l'oro e non la catena lo sai benissimo cosa ti lega ma o cieco ti compiaci delle catene che ti conducono alla morte per giunta te ne vanti e quali sono amore e gloria amore e gloria e queste le chiami catene me le strapperesti se ti lasciassi fare ci provo anche se non sono sicuro di riuscirci tutte le altre catene che ti legavano erano più fragili meno seducenti e perciò mi è stato più facile spezzarle queste invece ti danno piacere e ti ingannano con la loro illusoria bellezza l'impresa quindi è più difficile quando ho demeritato di te a tal punto che tu vuoi strapparmi la parte più luminosa dell'anima mia disgraziato ti sei forse scordato di quella massima filosofica che recita il massimo della disgrazia si raggiunge quando attraverso un falso pensare si rafforza l'opinione che le cose dovevano andare proprio in tal modo non l'ho affatto dimenticata ma la citi a sproposito dal momento che quelli che mi rinfacci sono sentimenti nobilissimi facciamo un po' di chiarezza altrimenti non riuscirò a concentrarmi con sufficiente energia parliamo prima dell'amore non ti sembra che sia la peggiore di tutte le follie per quanto riguarda l'amore credo che possa essere giudicata la più turpe passione dell'animo o la più nobile dipende dal suo oggetto se ardo d'amore per una donna malfamata il mio ardore è pazia ma se amo una donna virtuosa il mio amore è puro sai chi è quella donna della quale presumo dovrai parlare ho già considerato tutto con cura stiamo iniziando un discorso su una donna mortale dinanzi alla quale mi dispiace che tu abbia perduto gran parte del tuo tempo nell'ammirarla e venerarla mi meraviglio che una personalità come la tua si sia data a una pazzia così grande non offendere ti prego sì è una donna mortale ma in lei rifulge l'essenza della bellezza divina è un modello di perfetta onestà la sua voce il suo sguardo i suoi costumi non hanno nulla di mortale pensa bene a quello che stai per dire e modera le parole pazzo sono anni che seducenti falsità alimentano le fiamme del tuo animo a te piace il tuo male ma quando la morte avrà spento quei lumi che ti abbagliano quando avrai visto il suo aspetto mutato e le sue fattezze livide ti pentirai di aver amato un corpo corruttibile e arrossirai della tua ostinazione allontani dio da me questo funebre presagio eppure ciò dovrà accadere sì ma se la natura ha un ordine io morirò prima di lei ti ricordi quando temendo il contrario scrivesti un carme funebre ispirato dalla tristezza e dal dolore certo che me lo ricordo tant'è vero che tremo ancora adesso al pensiero che la parte più nobile della mia anima potesse sopravvivere a colei che con la sua sola presenza mi rendeva dolce la vita non intendo parlare del dolore che ti ha procurato bensì di quella paura che tanto ti ha impressionato e che può tornare a colpirti di nuovo poiché ogni giorno che passa la vicina alla morte sfigurando nel corpo ma io stesso sono invecchiato e dunque nel cammino verso la morte continuo a essere un passo avanti a lei in tal modo però ti costruisci un ordine della natura e lo pensi immutabile sei cieco ancora non comprendi quale follia sia il sottomettere l'animo alle cose mortali ma tutto quello che sono lo devo a lei e finalmente viene in primo piano Laura in proposito c'è da ricordare che questo che altre volte dicevamo ricordavamo è un uomo di chiesa ha preso gli ordini minori e sedotto per lungo tutta la sua vita da una visione che probabilmente è quella che troviamo nella canzone ventitraesima dalla visione di questa donna ignuda che si bagna e che lo perseguita il dramma di Petrarca è appunto non tanto quello di amare ma di amare una donna che Laura probabilmente apparteneva alla famiglia del Sad ed era sposata e sembra che avesse molti figli e Petrarca si innamora dunque lui religioso credente si innamora di una donna sposata e probabilmente tenta anche di conquistarla anzi le indicazioni a proposito dei suoi tentativi sono espliciti e sembra che Laura gli resista perché anche Agostino riconosce che si debba parlare di una donna onesta parlavo dunque della della canzone ventitresima la quale oltre ad essere significativa per quanto io ne sappia relativamente al primo incontro con Laura o comunque all'incontro che turba per decenni la coscienza di Petrarca ebbene oltre a questo c'è il quarto verso della canzone che si ricollega quanto ha senso con quanto leggevamo la volta scorsa in un passo dello Zibaldone di Leopardi dice questo verso perché cantando il duol si disacerba c'è un altro passo di Leopardi che parla appunto del canto originario dell'uomo il quale per cacciare le proprie disperazioni canta e suona e lirica ricorda in quell'occasione Leopardi lirica vuol dire appunto l'accompagnarsi con uno strumento che è probabilmente la lira noi diciamo questa apparente banalità una profonda saggezza canta che ti passa canta che ti passa ecco il canto fa passare che cosa? fa passare il dolore o almeno consente di sopportarlo e qui Petrarca dice cantando il duol cioè il dolore si disacerba diventa meno acerbo è appunto il tema sul quale sto progressivamente tentando non solo di insistere ma non solo sto insistendo ma sto progressivamente tentando di attrarre l'attenzione di chi mi ascolta che il canto poetico è l'autentico rimedio che Petrarca si trova tra le mani in una situazione di di crisi delle sue convinzioni religiose visto duque che abbiamo parlato che ci stiamo riferendo alla canzone ventitresima vorrei leggere quel passo dove a mio avviso sia un po' la chiave di interpretazione di quest'uomo di questo santuomo sarei tentato di dire che viene che resta abbagliato dalle forme di Laura dice la canzone i segui tanto avanti il mio desire cundì cacciandosi com'io solea mi mossi e quella fera bella e cruda in una fonte ignuda si stava quando il sol più forte ardea ecco lui quest'uomo vede questa splendida donna ignuda che però è sposata è sposata da un uomo ricco ha figli gli dice di no ci sono dei tratti straordinari in questa canzone dove lei dice di ciò non far parola e poi gli dice anche io non son forse chi tu credi e altre battute che alludono a una stretta amorosa non consumata che però diventa il chiodo l'aculeo che trafigge il pungiglione che trafigge lo spirito e la carne di Petrarca menti a te stesso avresti potuto essere un grande uomo se non ti avesse frenato con le seduzioni della sua bellezza quello che sei te l'ha donato la bontà della natura mentre quello che avresti potuto essere te l'ha tolto lei o meglio tu l'hai buttato via lei infatti è innocente la sua bellezza con tutte le passioni alimentate dalle lacrime dai sospiri ha devastato la tua originaria virtù in realtà costei che tu consideri come tua guida facendoti evitare molte sozzure ti ha spinto in uno splendido baratro ti sei talmente alimentato della sua bellezza che per te non esiste altro e tutte le altre cose le vedi con fastidio noia ella pur essendo innocente ti ha allontanato dall'amore supremo dal creatore sei caduto alla creatura e questa è la via più facile che conduce alla morte no no l'amore per lei mi ha fatto più amare Dio sì ma hai invertito l'ordine come in che modo ecco mentre tutto quello che vediamo deve essere amato per amore di colui che l'ha creato tu invece sedotto da lei non hai amato il Dio come avresti dovuto ma hai ammirato in lui il creatore di quella come se non avesse fatto niente di più bello in realtà la bellezza del corpo è l'ultima delle bellezze chiamo testimone colei che è qui e la mia coscienza che io non ho amato più il suo corpo della sua anima te lo provo il fatto che mentre avanzava la sua età che rovina lentamente la bellezza io sono rimasto fedele al mio pensiero anche se il fiore della giovinezza stava passendo cresceva con gli anni la bellezza dell'animo se avessi amato di più il suo corpo avrei sicuramente cambiato idea cerchi di puntellarti sulle sole parole se dici di poter amare solo ciò che si può vedere vuol dire che tu hai amato più il corpo che l'anima o almeno non hai amato nessuno dei due con sufficiente equilibrio con il passare dell'età le tue virtù sono diminuite ripercorri con la memoria e in ordine le tappe della tua vita e che cosa vedi cosa vedo vedo che la mia vita ha fatto come un percorso ad y sono salito per una retta via fino a quando sono giunto sobrio ad un bivio e invece di prendere a destra forse per presunzione ho preso a sinistra non tenendo conto quello che avevo letto da ragazzo questo è il luogo in cui la strada si divide in due l'una quella di destra porta all'elisio l'altra quella di sinistra verso il nero tartaro da allora non sono riuscito a riprendere la strada giusta stravolgendo i miei comportamenti e dimmi quando sarebbe avvenuto questo nel periodo della mia adolescenza quando hai visto per la prima volta il volto di quella donna è un giorno che non potrò mai dimenticare pensaci ancora puoi forse collegare la visione del suo volto all'inizio della tua perdizione in effetti le mie deviazioni e l'incontro con lei avvennero nello stesso momento bene è quello che volevo sentirti dire una luce straordinaria accecò i tuoi occhi ma perché quando l'hai vista hai voltato a sinistra perché mi sembrava più facile l'altra quella di destra è stretta ardua sono cascato nella trappola come uno stupido ma ero giovane inesperto e così hai cominciato a nutrirti con lugubre piacere di lacrime di sospiri invocavi nelle notti insonni il nome dell'amata gli occhi tristi e bagnati la mente confusa il sonno agitato i lamenti nel dormiveglia la voce rauca e balbettante ti sembrano segni di salute questi era lei che decideva per te quali fossero i momenti lieti e tristi splendeva il sole quando appariva tornava il buio quando scompariva se mutava espressione mutava il tuo umore insomma dipendevi in tutto e per tutto dai suoi capricci io ti ricordo cose vere che tutti conoscono e poi non essendo sufficiente rimirare dal vivo la sua immagine te ne sei fatta fare una dipinta da un famoso artista per poterla portare sempre con te e piangerci infinite lacrime c'è pazzia più grande non c'è niente che ci faccia dimenticare trascurare dio come le cose temporali ammettiamo che lei sia stata virtuosissima tu sei stato pazzo e vizioso sei stato trascinato dalla sua bellezza e dal piacere che speravi di ottenere dal suo godimento e dall'impeto del tuo desiderio comunque non è necessario che continui a elencarti le miserie dell'amore ribadisco il fatto che un animo costretto a strisciare sotto il fardello di tanti guai difficilmente può aspirare a raggiungere la sorgente del sommo bene il centro concettuale di queste pagine del secretum è dato dalla considerazione che è una delle più filosofiche fatte da Petrarca è dato dalla considerazione del rapporto tra mezzo e fine si tratta del passo dove da prima Petrarca non capisce Agostino che lo rimprovera di aver amato in un certo modo Laura ma poi capisce perché Agostino gli dice dopo che Petrarca ha detto che l'amore per lei gli ha fatto amare di più Dio Agostino gli dice sì ma hai invertito l'ordine dico che si tratta di uno degli spunti più importanti dal punto di vista concettuale perché l'ordine nel rapporto mezzo fine è quello che determina il senso dell'azione potremmo fare un esempio rifacendosi a quella Aristotele che Petrarca tende a lasciare sullo sfondo quando Aristotele dice che lo scopo della crematistica e la crematistica è l'arte di guadagnare lo scopo della crematistica è di far sempre più denari di aumentare la ricchezza laddove lo scopo dell'economia è quello di raggiungere la vita buona allora da un lato lo scopo è vivere bene dall'altro lato nel caso della crematistica lo scopo è aumentare la ricchezza aumentare sempre di più la ricchezza ebbene si tratta posto che in entrambi i casi le azioni compiute dall'uomo economico e dall'uomo della crematistica siano identiche si tratta invece di due situazioni del tutto diverse perché è cambiato l'ordine da un lato il fine è la ricchezza dall'altro lato la ricchezza è il mezzo allora Agostino dice a Petrarca certo tu hai avuto a che fare con Dio ma hai avuto a che fare con Dio non come scopo di quel tuo amore per l'aura che ti conduceva a Dio ma hai avuto a che fare con Dio come mezzo che ti consentiva di amare nel modo a te più grato l'aura ecco quando si cambia il senso del rapporto mezzo fine va tutto a catafascio se volessimo avere un esempio che è molto lontano dalla situazione in cui si trova Petrarca potremmo riferirci al fatto che se l'intrapresa capitalistica lo so che può sembrare un pugno nell'occhio parlando di Petrarca parlare dell'intrapresa capitalistica se all'intrapresa capitalistica si dice tu devi avere come scopo il profitto il profitto è il Dio che è appunto lo scopo di questa intrapresa se invece l'intrapresa capitalistica è come vorrebbe ad esempio la Chiesa Cattolica ciò che è quell'intrapresa che ha come scopo il bene comune e allora il capitalismo cambia il significato riconosco che hai vinto sento la mia infelicità ma finché ho tempo che cosa devo fare non bisogna scoraggiarsi ma tentare il possibile ascolta il mio consiglio nel tuo caso bisognerebbe evitare che tu soggiaccia a una sola passione per cedere a molte trasformandoti da nobile amante in volubile donnaiolo proprio come quel re dei persiani che divisa il gange e i molti rigagnoli riducendo in tal modo la sua forza raccogli le forze e passa dunque da un gioco all'altro nel passaggio può esserci speranza di libertà o per lo meno di una dipendenza meno dura ma io sono fuggito diverse volte da lei e mi sono portato dietro le mie ferite infatti il mutare luogo aumenta il dolore ma non dà salute Socrate diceva a un amico che si lamentava del fatto che i viaggi non gli avevano giovato in realtà tu viaggiavi con te vedi devi prima deporre il tuo carico di affanni preparare il tuo animo e solo allora potrai fuggire devi essere ben disposto dentro di te io sono perplesso mentre mi indichi come curare guarire l'animo affermi che devo prima guarirlo e poi fuggire ma se è guarito cos'altro ci vuole e se non lo è e se cambiare luogo non giova dimmi allora quali rimedi ti servono ho detto che l'animo deve essere preparato non guarito perciò ti consiglio e ti prego obbliga l'animo a deporre ciò che lo opprime e parti senza la brama di tornare quando sarai veramente convinto dentro di te per prima cosa ti consiglio di tornare in Italia perché sento che hai nostalgia del tuo luogo natale nessuna terra può gareggiare con i pregi dell'Italia i costumi dei suoi abitanti i suoi cieli i suoi mari i colli dell'appennino sono più adatti per risolvere i tuoi problemi vai sicuro affrettati e non voltarti indietro dimentica il passato e pensa al futuro serenamente troppo sei stato in esilio dalla patria e da te stesso è tempo di tornare perché come tu hai scritto si fa sera e la notte favorisce i ladroni ora guarda qui che cos'è questo uno specchio ti sei visto recentemente in uno specchio ma che significa questa domanda gli specchi sono stati inventati affinché l'uomo potesse conoscersi da se stesso guardati rifletti sulla fragilità e sullo squallore e sullo squallore del corpo rifletti sulla brevità della vita sulla fuga del tempo non lasciarti illudere dalla speranza di una vita lunga e metti a frutto ogni giorno della tua esistenza come fosse l'ultimo e prega all'onipotente di mettere fine ai tuoi affanni comunque ora voglio parlarti di un ultimo male che vorrei cominciare a curare con te qual è quel male dolcissimo padre la gloria tu desideri più del dovuto la gloria fra gli uomini e l'immortalità della tua fama sì l'ammetto ma non riesco a frenare questa aspirazione in nessun modo c'è il rischio che questa vana immortalità ti precluda la strada verso l'immortalità vera è proprio questo che temo come posso salvarmi è questa la peggiore delle tue malattie forse la più ignobile ti domando che cos'è questa gloria forse tu la conosci meglio di me tu conosci il suo nome gloria senti gloria è un nome ma la cosa in sé cioè quello che si ottiene con quella mi sembra che tu non lo conosca la fama che si ottiene rincorrendo la gloria che cos'è diceva cicerone il parlare spesso di qualcuno collode la gloria quindi include la fama sai definirmi la fama adesso non mi viene in mente niente e non vorrei dire cose che non conosco prima di parlare della gloria come una delle coppe mortali di Petrarca Agostino introduce un tema centrale e che occupa la maggior parte del testo che abbiamo sentito e il tema è introdotto da una domanda che Petrarca rivolge a Agostino finché ho tempo che cosa devo fare ecco che cosa devo fare una delle domande che attraversano tutta la storia della nostra cultura susuffino al che fare di Lienin che cosa devo fare loro che ascoltano ricorderanno che il giovane ricco si rivolge a Gesù e gli chiede maestro che cosa devo fare per raggiungere la vita eterna da prima Gesù gli dice segui i comandamenti il giovane ricco gli dice di averlo già fatto e allora Gesù gli esprime questa gli formula questa sentenza che in qualche modo è terrificante vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri il testo evangelico dice che il giovane che possiamo raffigurarci come col capo chino dopo aver sentito questo questo invito di Gesù si allontanò senza dire nulla e cioè il giovane si allontana senza dare almeno questo ci fa intendere il testo evangelico senza dare le proprie ricchezze ai poveri ora vorrei concentrare l'attenzione sul come mai qualsiasi risposta si possa dare al che cosa devo fare si ha a che fare con un allontanarsi a capo chino da parte di colui che ha rivolto alla domanda quindi è il caso di non prestare a mio avviso troppa attenzione a questo strano Agostino che invita Petrarca a ritornare in Italia e poi che prima che gli aveva detto questo sostituire l'amore per un'unica donna con sembra di capire con altre passioni anche se certamente Agostino non intende invitare Petrarca al peccato però sono elementi che stanno al di sotto dell'imponenza della domanda che cosa devo fare potremmo dire il giovane ricco in questo caso ecco qui è il pandan del giovane Petrarca perché Petrarca quando scrive il segreto ma è intorno ai 40 anni quindi il giovane ricco perché si allontana senza dir più nulla perché l'aspetto difficile della risposta che uno può dare a quel tipo di domanda l'aspetto difficile della risposta che Gesù avrebbe potuto dare a quella domanda è che cosa deve fare il giovane ricco per avere la forza e la volontà di dare tutte le sue ricchezze ai poveri e qui il punto cioè è semplificante la riduzione della risposta all'indicazione di un'azione vai e dai vendi e dai ai poveri e già ma l'aspetto più difficoltoso è che forza deve avere la mia volontà per decidersi a dare tutto e a cedere tutto ai poveri questa è una delle aporie che il testo di Petrarca contribuisce una delle aporie del pensiero direi non solo cristiano ma del pensiero occidentale così credente nel fare e nel dover fare è una delle aporie che il discorso di Petrarca contribuisce a portare alla luce la fama non è altro che il parlare di qualcuno che ha sulla bocca di molti è allora un fiato un'aria che cambia direzione a cosa porta questo tuo continuo applicarti nello studio con continue veglie per godere il favore del popolo ti sei per occupato di piacere proprio a coloro che ti piacevano di meno cogliendo qua e là ogni genere di fiori poetici e storici per colpire le orecchie di chi ti stava ad ascoltare hai riservato al godimento dei tuoi amici i fiori più belli per arruffianarteli per ottenere così una gloria senza sostanza non solo non contento della tua attività giornaliera che ti faceva acquisire una fama legata al presente hai cominciato a desiderare la fama anche presso i posteri ma se tu vedessi ben dentro di te ti accorgeresti che questa fama aleatoria e limitata nel tempo sarebbe ben poca cosa dinanzi all'eternità conosco questa favola trita e ritrita dei filosofi la terra dicono è solo un piccolo punto dinanzi all'immensità dell'universo un solo anno è niente in confronto la migliaia di anni la fama non riempie né quel punto né quell'anno e altre cose simili ti prego di tirare fuori qualcosa di più efficace non ho l'illusione di diventare un dio per abbracciare eternamente il cielo e la terra ma io sono un mortale mi è sufficiente la gloria umana e come mortale non desidero che cose umane non c'è speranza se desideri cose mortali sei tutto terreno non puoi aspirare a ciò che è immortale ma io non sono così folle ho sempre guardato verso l'eternità ma ho visto tutte le cose per quelle che sono cioè mortali non cerco di forzare la natura io vado in cerca della gloria fra gli uomini che sono mortali come me ammettiamo pure che questo sia saggio è invece stolta abbandonare i sommi beni per un soffio di vento che è effimero ma io non li abbandono forse li rimanda più tardi ammettiamo pure per assurdo che tu abbia la certezza la garanzia di vivere lungamente non ti sembra che sia pazzia a sprecare gli anni migliori cercando di piacere agli altri e lasciare le briciole a Dio e a te stesso come se la libertà della tua anima fosse l'ultima delle tue preoccupazioni per briciole intendo gli ultimi anni i peggiori quelli che portano solo fastidi non ti sembra che tutto questo vorrebbe dire invertire l'ordine non dovrebbe essere il contrario cioè dedicare gli anni migliori quelli della giovinezza a te stesso e a Dio non mi lascio tentare dal desiderio di parlare o di chiarire l'espressione fiori poetici è un'espressione che poi è subito ripresa dopo perché avremo occasione di prima della fine di queste trasmissioni avremo occasione di parlare di questa parola fiori vorrei piuttosto concentrare l'attenzione sulla sull'emergenza nel testo di Petrarca della struttura fondamentale metafisica cioè il rapporto tra il terreno e la terra ora si sa che Petrarca era considerato piissimo e cattolicissimo e aveva la tempra di filosofo morale non aveva la tempra del metafisico e cosa intendo dire con questo intendo dire che prima di sollecitare se stesso e gli uomini ad essere buoni è necessario capire perché si debba essere buoni ora al solito la filosofia ha una tempra che la trattiene sempre al di sopra del moralismo e delle melensaggini del moralismo la filosofia da quando nasce indica la bontà come l'adeguazione a quell'ordine avevamo avuto occasione di dirlo altre volte l'adeguazione a quell'ordine immutabile che essa ha svelato essere buoni vuol dire adeguarsi all'ordine immutabile l'ordine immutabile è innanzitutto il Dio l'Eterno a cui il testo di Petrarca commisura costantemente ciò che è mortale ciò che è caduto e sarebbe il caso qui di ricordare che avrebbe tutto da guadagnare il testo di Petrarca se invece di partire così a mezza costa con l'esortazione a essere buoni ricordasse in modo più consistente il fondamento metafisico che la grande filosofia tradizionale indica il grande fondamento metafisico della necessità della bontà è perché c'è Dio che se si vuole essere felici è necessario essere buoni mi viene in mente un formidabile verso di Eschilo nella Camennone nell'Inno a Zeus dove si dice direi proprio quasi alla lettera soppesando tutte le cose se è necessario gettare dall'animo il dolore che rende folli non possiamo pensare che a Dio che a Zeus e Zeus già nel discorso di Eschilo che mi pare di aver già citato precedentemente già questo Zeus di Eschilo è l'immutabile cioè ciò che non può divenire ciò che non può uscire dal nulla e non può ritornare nel nulla laddove il mortale è ciò che per essenza esce dal nulla e ritorna nel nulla e tutta la cultura occidentale enfatizza questo concetto della mortalità il Dio di Aristotele è appunto c'è quel celeberrimo passo del libro Primo della Metafisica dove Aristotele esponendo il pensiero dei primi filosofi espone anche la propria posizione e dice i primi pensatori intesero che esiste una l'espressione greca di Aristotele una physis aiei sozomene che vuol dire un essere sempre salvo e dal contesto si capisce che un essere sempre salvo dal nulla il Dio è l'essere che è sempre salvo dal nulla ebbene se noi volessimo soffermarci un poco su questo tema che d'altra parte è fondamentale e senza di cui anche queste pur interessanti considerazioni di Petrarca resterebbero così sospese come dicevo prima alla mezza costa del moralismo allora dobbiamo innanzitutto tenere presente che non è che i greci siano cioè i primi pensatori il popolo greco il popolo dei metafisici una sorta di professori di filosofia o di studiori di filosofia o di teologi i quali si mettono a parlare di Dio ma perché parlano di Dio perché Dio proprio perché è quello eterno di cui anche parla questo testo di Petrarca proprio perché è quello eterno sempre salvo dal nulla è ciò in cui l'uomo greco ripone custodito dal nulla tutto ciò che l'uomo greco preme di se stesso è perché l'uomo greco vuole salvare se stesso e così è da dire di tutti gli uomini post-greci che crescono sulla scia del pensiero greco è perché l'uomo greco vuole salvare se stesso che evoca un Dio cioè evoca il luogo in cui tutto ciò che all'uomo interessa viene salvato per sempre dal nulla e poi accadrà che questo tipo di salvezza si rivelerà inaccettabile da parte dell'uomo moderno io qui vorrei spezzare una lancia a favore di quello che a mio avviso è il modo autentico di intendere la filosofia cioè non come una successione di convinzioni per cui prima c'è il modo di pensare dei greci e poi c'è il modo di pensare dei moderni e dei contemporanei no c'è una necessità che porta dal modo di pensare dei greci al modo attuale di pensare e se teniamo presente che la filosofia non è una sovrastruttura ma è l'anima della civiltà è il cuore attorno al quale cresce la concreta civiltà dell'Occidente e allora la necessità del passaggio dal passato al presente dell'Occidente è qualche cosa che riguarda appunto non soltanto tra virgolette soltanto non soltanto il pensiero filosofico ma le istituzioni l'economia la politica tutto ciò che vi è di concreto nell'uomo contemporaneo la necessità di dire addio al passato ecco capire questa necessità significa avere anche le idee chiare intorno al destino dell'uomo contemporaneo non ti consiglierò mai di vivere senza gloria ma allo stesso tempo ti raccomando di non anteporre la ricerca della gloria a quella della virtù sai qual è l'impedimento che ti fa zoppicare continuamente piuttosto che abbandonare i tuoi libercoli preferisci abbandonare te stesso restituisciti invece a te stesso guardati dentro lo specchio e ripeti fino a stancarti le vicende della natura passano ma ritornano più e più volte io invece esco di scena per non ritornare mai più guarda le ombre dei monti guarda il sole che tramonta e ripetiti la vita fugge e si distende l'ombra della morte il sole domani risorgerà mentre il mio giorno se ne è volato via guarda di notte le stelle declinanti per il tacito cielo e mentre le vedi affrettarsi all'occidente sappi che sei sospinto insieme a loro e che non ti resta altra speranza di stabilità se non in colui che è immobile e che non conosce fine guardati ieri fanciullo e sei passato dall'altra parte con la velocità di caduta di un corpo pesante guarda le antiche mura di una città e domandati dove sono quelli che le hanno costruite il tempo il tempo della vita scorre via come un fiume leggero tutta la vita dei filosofi è meditazione alla morte francesco ascolta il tuo spirito che ti dice il mio animo deve rivolgersi verso il sommo bene è questa la via verso la patria ascolta questo spirito obbidisci se vuoi essere salvo se vuoi essere libero non c'è bisogno di lunghe decisioni il nemico ti incalza le spalle ti assale di fronte ti assedia intorno alle mura che tremano non aspettare ma cosa ti serve scrivere per gli altri se non riesci ad ascoltare te stesso avresti dovuto avvertirmi prima che mi dedicassi ai miei studi ma te l'ho detto ripetuto fin da principio quando ho visto che prendevi la penna in mano e ti ho ripetuto mille volte che la vita è breve un soffio e che avresti raccolto un misero frutto con i tuoi studi ma le chiacchiere della gente ti avevano otturato le orecchie quelle chiacchiere che tu odi e segui nello stesso tempo non marcire nella muffa dell'inerzia se quello che ho detto lo ritieni giusto se sono stato un po' duro ti prego di non provare fastidio invece ti ringrazio moltissimo per quello che hai detto mi hai tolto la fitta nebbia di errori che offuscano i miei occhi non finirò mai di ringraziare Costei la verità che spero non si sia annoiata dei nostri discorsi ha sempre rivolto il suo sguardo verso di noi senza il vostro aiuto non avrei imparato nulla di duraturo ma ma la vostra dimora è il cielo io dimoro ancora qui sulla terra e non so quanto la mia vita durerà come vedi sono come sospeso vi supplico di non abbandonarmi anche se sono molto lontano da voi senza di te mio caro padre sarei triste e senza di lei sarei niente non abbandonare te stesso se non vuoi essere abbandonato da tutti farò come tu dici farò il possibile per accogliere gli sparsi frammenti della mia anima e cercherò di abitare con me stesso ma scusa scusa mentre noi parliamo mi aspettano delle faccende anche se sono legate a questa terra ci risiamo di nuovo è il volgo che pensa che ci siano cose più importanti e utili che pensare intorno alla morte e all'eterno e si lo so che per me sarebbe più importante applicarmi abbandonando tutte le altre cose a quell'unico studio che porta alla salvezza ma non non sono capace di tenere a freno il desiderio di terminare i miei scritti e così ricadiamo nella vecchia disputa tu chiami in potenza la volontà e va bene vada pure così non mi resta altro che supplicare il dio che la strada da te intrapresa anche se piena di errori ti porti al sicuro verso la salvezza speriamo che accada quello che chiedi che io possa uscire con la guida di dio da tanti affanni e speriamo che mentre seguo lui non mi getti da solo la polvere negli occhi speriamo che si calmino i flutti dell'animo che il mondo stia in silenzio e che non strepiti la fortuna voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri onde io nutriva il corin sul primo giovanile errore quando era in parte altruonda quel che io sono del vario stile in che io piango e ragiono fra le vane speranze e il van dolore dove sia chi per prova intenda amore spero trovar pietà non che perdono ma ben veggior sì come al popol tutto favola fui gran tempo onde sovente di me medesmo me come vergogno ed il mio vaneggiar vergogna il frutto e il pentersi e il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno forse qualcuno può restare deluso del modo in cui il secreto si conclude e una conclusione si potrebbe pensare banale o prosaica cioè dopo tutto questo gran ragionare Petrarca dichiara di sentirsi in dovere di badare alle proprie faccende felicemente alla lettura della conclusione del del secreto si accompagna la lettura del sonetto che apre il canzoniere di Petrarca che al solito mostra un aspetto della contraddizione in cui si trova l'uomo Petrarca che da un lato crede e credente e dall'altro dubita a proposito del suo esser credente c'è da dire che quando all'inizio del secretum Petrarca si imbatte nella verità quella verità è già connotata come verità cristiana e questa è la grande innovazione rispetto al pensiero filosofico greco ma è anche il grande problema perché la verità potrebbe chiedere ma perché io debbo essere cristiana perché non posso essere soltanto verità ora sappiamo come il cristianesimo come la teologia cristiana ha risposto a questa domanda prendiamo per esempio forse in questo caso può essere più opportuno prendere in considerazione Tommaso piuttosto che Agostino e Tommaso dice che la ragione umana non sa tutto e allora non sapendo tutto è aperta a ciò che sta oltre la ragione umana ma il cristianesimo è ciò che sta oltre la ragione umana dunque la ragione stessa la verità stessa disvelata dalla ragione è verità cristiana dove allo stesso grandissimo Tommaso si potrebbe domandare ma perché se ammesso che la ragione umana sia finita perché la sua finitezza perché lo spazio vuoto che lascia in percorso non percorso perché quello spazio vuoto deve essere per forza occupato dal cristianesimo e non da qualche altra forma religiosa l'islamismo ancora Tommaso non poteva parlare del buddismo ma per esempio l'islamismo che all'inizio della summa contra gentile Tommaso parla esplicitamente dei maomettani come quelli anche ai quali egli intende rivolgersi perché la filosofia di cui lui parla intende essere convincente per tutti e per i cristiani e per i non cristiani come i maomettani come i musulmani gli islamici ecco questo è il grande interrogativo che riguarda non soltanto Petrarca che non come Dante ma sullo stesso livello di Dante è quel tipo di poeta pensante che oggi noi crediamo sia messo in circolazione da un tipo di filosofia come quello di Heidegger quando Heidegger parla di Hölderlin della poesia pensante di Hölderlin beh dobbiamo dire che prima della poesia pensante di Hölderlin c'è quella di Leopardi e prima ancora della poesia pensante di Leopardi c'è quella di Petrarca e di Dante un breve accenno per quanto riguarda il dubbio che attraversa tutto il sonetto che abbiamo sentito in quel sonetto c'è ben poco della speranza cristiana c'è piuttosto l'accenno al breve sogno che è il mondo e è strano che questo questo pessimismo che riguarda l'altro lato della contraddizione a cui mi riferivo la fede e il dubbio questo pessimismo del sonetto fa chiamare breve sogno ciò che invece dovrebbe essere il passaggio verso la vita eterna e cioè qui il clima è curioso che si tratti del sonetto che apre tutto il canzoniere che è scritto dopo il canzoniere è curioso che il clima qui sia curioso è interessante che il clima qui sia del tutto diverso da quello del secretum dove Petrarca si sforza di mettere in primo piano la verità in quanto cristiano di pensiere in pensiere di monte in monte mi guida amor con ogni segnato calle provo contrario alla tranquilla vita se in solitaria piaggia rivo o fonte se in fra due poggi siede ombrosa valle i visacqueta l'alma sbigottita e com'amor l'invita or ride or piange or teme or s'assecura e il volto che lei segue o vella il mena si turba era serena e in un esser picciol tempo dura onde la vista uom di dal vita esperto diria questo arde e di suo stato incerto per alti monti e per selve aspre trovo qualche riposo ogni abitato loco è nemico mortal degli occhi miei a ciascun passo nasce un pensier nuovo della mia donna che sovente in gioco gira il tormento che io porto per lei e appena vorrei cangiar questo mio viver dolce amaro chi dico forse ancor ti serva amore ad un tempo migliore forse a te stesso vile altrui sacaro e in questa trapasso sospirando or porrebbe esser vero or come or quando ove porge ombra un pino alto od un colle talor ma resto e pur nel primo sasso disegno colamente il suo bel viso poi che a me torno trovo il petto molle della pietate e allora dico ah il asso dove sei giunto e onde sei diviso ma mentre tener fiso posso al primo pensier la mente vaga e mirar lei e obliar me stesso sento amor si da presso che del suo proprio error l'alma s'appaga in tante parti e si bella la veggio che se l'error durasse altro non cheggio io l'ho più volte or chi fia chi mi creda nell'acqua chiara e sopra l'erba verde veduto viva e nel troncone d'un faggio e in bianca nube si fatta che l'eda avria ben detto che sua figlia perde come stella che il sol copre col raggio e quanto in più selvaggio loco mi trovo e in più deserto lido tanto più bella il mio pensier la d'ombra poi quando il vero sgombra quel dolce error pur lì medesmo assidome freddo pietra morta in pietra viva in guisa d'on che pensi e pianga e scriva ove d'altra montagna ombra non tocchi verso il maggiore e il più espedito giogo tirarmi suol un desiderio intenso indi miei danni a misurar cogli occhi comincio e intanto lacrimando sfogo di dolorosa nebbia il cor condenso allor chimiro e penso quanta aria dal bel viso mi diparte che sempre mesi presso e si lontano poscia fra me pian piano che sai tu l'asso forse in quella parte or di tua lontananza si sospira e in questo penser l'alma respira canzone oltre a quell'alpe là dove il cielo è più sereno e lieto mi rivedrai sovra un ruscello corrente ove Laura si sente d'un fresco e odorifero laureto ivi è il mio cor e quella che il min vola qui veder poi l'in tratto del secretum conteneva passi splendidi una delle interpretazioni prevalenti di Petrarca è che la sua prosa è il serbatoio da cui viene attinta la grande poesia quindi il passaggio dal secretum alla lettura di questi sonetti di queste canzoni di Leopardi è un po' richiesto dall'andamento del discorso più volte ho avuto occasione di accennare al carattere decisivo che ha la poesia nel mondo culturale di Petrarca e dobbiamo dire anche nel mondo può sembrare un'ovvietà ma non lo è come cercherò di mostrare nel mondo culturale di Petrarca e nel mondo culturale di Dante il carattere decisivo della poesia quindi da questo momento fino alla fine di queste trasmissioni la parola sarà data alla grande alla grandissima poesia di Petrarca ed è venuto anche il momento di introdurre alcune giustificazioni della tesi che ho avanzato nelle puntate precedenti per la quale la poesia è da un lato agli occhi di Petrarca il luogo abbiamo sentito nel secretum il luogo dei nobili pensieri il luogo in cui Petrarca raggiunge la propria felicità abitando con le muse dall'altro lato c'è la sensazione che alleggia lungo il secretum che la poesia sia anche la maggiore tentazione per Petrarca e in effetti il fatto che Petrarca dica che alla poesia si è dedicato in età giovanile alla poesia in volgare e che poi invece si è dedicato alle questioni serie denuncia questa oscillazione di Petrarca rispetto al proprio poetare la poesia è la grande tentazione che precede la modernità la poesia di Petrarca è certamente rivolta al terreno a ciò che è terreno e innanzitutto alla sua donna e da questo punto di vista non è una novità rispetto alla poesia classica si pensi a Saffo si pensi ai lirici greci si pensi a Orazio Ovidio eccetera la novità di un poetare intorno alle cose terrene è data dal fatto che tra i classici e Petrarca c'è di mezzo il cristianesimo il cristianesimo è esigente il cristianesimo dice querite primum regnum dei cioè cercate per primo il regno di Dio per primo questo vuol dire che questo regno non sia cercato insieme a qualche cosa d'altro e il primo è anche l'unico che essenzialmente deve essere cercato essenzialmente perché certamente anche Agostino dice a Petrarca che non gli vuole togliere i godimenti terreni ma essenzialmente e primariamente cercato è il regno di Dio querite primum regnum dei quindi Gesù non dice se volete salvarvi cercate il regno di Dio e la poesia no anzi c'è a partire sin dagli inizi uno scontro mortale tra poesia e cristianesimo così come sin dagli inizi c'è stato uno scontro mortale tra ciò che la filosofia ha creduto che fosse la poesia e ciò che la poesia è stata Platone caccia dalla città ideale i tragici e il cristianesimo emargina la poesia in quanto vede la possibilità che accanto al querite primum regnum dei ci sia anche la ricerca di un regno che non è di Dio perché è il regno dalla forma poetica si tratterà di vedere che questi che possono essere considerati come due dimensioni tra di loro conciliabili sono in effetti due padroni i due padroni che si contendono il ruolo del primum che deve essere ricercato sia in Petrarca ma forse la cosa ancora più interessante in Dante si assiste a questa contesa dove la poesia finisce con lo strappare al contenuto cristiano il rango di primarietà il rango di unico padrone al quale innanzitutto ci si deve sottomettere prima di sviluppare la volta successiva questo giro di concetti vorrei far sentire agli ascoltatori come Petrarca ripropone il concetto di poesia nei suoi rapporti con la verità e dunque con la verità cristiana dice proprio nel poema Africa che è il poema richiamato in esordio da Agostino non è dei poeti quella libertà che si vede essere piaciuta a molti cioè i poeti non è che abbiano poi tutta questa libertà perché dice il testo prima di scrivere bisogna che il poeta abbia gettato fondamenta saldissime di verità ecco quindi non c'è poesia autentica se non ha delle fondamente saldissime di verità e qui la verità è proprio la verità che assiste al colloquio tra Agostino e Petrarca queste fondamenta saldissime aggiunge il testo sulle quali appoggiandosi può poi nascondersi entro una nube dilettevole e variopinta ecco questa nube dilettevole e variopinta sono espressioni analoghe a quelle usate da Dante per esempio del De Vulgari e Luquenza e anche altrove per indicare la poesia il fascino della bella menzogna che è quella espressione di Dante che è menzogna non appena si allontana dalle proprie fondamenta saldissime è l'idea di Platone e l'idea che domina in tutta la tradizione occidentale di poesia chiare fresche e dolci acque ove le belle membra pose colei che sola a me pardonna gentile ramo ove piacque con sospir mi rimembra a lei di fare al bel fianco colonna erba e fior che la gonna le giadra ricoverse con l'angelico seno aere sacro sereno ove amor coba gli occhi il cor ma perse date udienza insieme alle dolenti mie parole estreme segli e pur mio destino e il cielo inciossa dopra camor coest'occhi lacrimando chiuda qualche grazia al meschino corpo fra voi ricopra e torni l'alma al proprio albergo ignuda la morte fiamen cruda se questa spene porto a quel dubbioso passo che lo spirito lasso non poria mai in più riposato porto né in più tranquilla fossa fuggir la carne travagliata e l'ossa tempo verrà ancor forse ch'allusato soggiorno torni la fera bella e mansueta e la vella mi scorse nel benedetto giorno volga la vista disiosa e lieta cercandomi e oh pieta già terra incra le pietre vedendo amor l'nispiri inquisa che sospiri si dolcemente che mercè mi impetre e faccia forza al cielo asciugandosi gli occhi col bel velo da verà mi scendea dolce nella memoria una pioggia di fior sovra il suo grembo ed ella si sedea umile in tanta gloria coverta già dell'amoroso nembo qual fior cadea sull'embo qual sulle trecce bionde coro forbito e perle erano quel dia vederle qual si posava in terra e qual sull'onde qual con un vago error girando parea dir qui regna amore quante volte diss'io allor pien di spavento costai per fermo un acco in paradiso così carco d'oblio il divin portamento e il volto le parole e il dolce riso ma veina e si diviso dall'immagine vera chi dicea sospirando qui come venio o quando credendo essere in ciel non l'ha dov'era da indi in qua mi piace quest' erba si ch' altrove non ho pace se tu avessi ornamenti quant' hai voglia porresti arditamente uscire dal bosco e gir infra la gente amor che nel pensare mio vive regna e il suo seggio maggior nel mio cor tene talor armato nella fronte vene ivi si loca e ivi pon sua insegna quella camare sofferirne insegna e vol che il grande zio l'accesa spene ragion vergogna e reverenza frene di nostro ardir fra se stessa si sdegna onde amor paventoso fugge al core lasciando ogni sua impresa e piange e trema ivi sasconde e non appare più fore che possio far temendo il mio signore se non star seco in fin all'ora estrema che che bel fin fa chi ben amando more abbiamo lasciato in sospeso nella puntata precedente il discorso relativo alla contesa tra poesia e sapienza cristiana e ho anticipato la tesi che non si tratta di due dimensioni amiche conciliabili ma di due dimensioni che sono in contrasto proprio perché il cristianesimo intende essere lo scopo intende essere il contenuto del cristianesimo intende essere la guida che non divide la propria posizione con alcun'altra istanza querite dicevo querite primum reum dei ora il rapporto tra poesia e cristianesimo nella poesia cristiana ha uno sviluppo che si ripercuote anche nelle singole parole che sono grandi metafore di questo sviluppo qui noi possiamo limitarci allo sviluppo che si produce tra la poesia cristiana di Dante e la poesia cristiana di Petrarca che come dicevo in precedenza sono due grandi forme di pensiero poetante inviterei a ricordarsi quel passo di chiare fresche dolci acque straordinario dove i fiori costituiscono una pioggia che scende sul grembo di Laura scende dai rami e dice la poesia qual fior cadea sul lembo qual sulle trecce bionde eccetera e qui è lo splendore delle perle della positura di Laura e questa pioggia di fiori se noi prestiamo attenzione a questo a questo brano poetico non possiamo non ricordarci del modo in cui Beatrice compare a Dante nel trentesimo canto del purgatorio non possiamo non vedere lo scarto la differenza radicale tra la pioggia di fiori che copre Laura e la pioggia di fiori che copre Beatrice ricordiamoci che il fiore è la prima immagine che compare proprio nel primo canto dell'inferno quando Virgilio dice a Dante io sono venuto per salvarti e Dante introduce quella metafora dei fioretti che dopo il gelo notturno si aprono e si aprono come lui si apre pieno di speranza sentendo che il cielo ha mandato un salvatore a lui che si trovava nella selva oscura e vediamo la differenza tra la pioggia di fiori che copre Laura e la pioggia di fiori gettati dunque dagli angeli i quali cantano veni perché sta arrivando Beatrice veni sponsa de Libano e cioè Laura è un'aura sacrale benedictus qui venis e qui benedictus è riferito proprio a Beatrice la quale giunge dice Dante così dentro una nuvola di fiori che dalle mani angeliche saliva e ricadeva in giù dentro e di fuori sovra candido vel cinta d'uliva donna ma parve sotto verde manto vestita di color di fiamma viva ecco qui la radicale differenza di intonazione tra la poesia di Dante e quella terrina di Petrarca balza in prima linea vorrei ricordare anche quel passo dove da capo si tratta di fiori del trentesimo del paradiso dove Dante si imbatte nella rosa dei beati anche qui la rosa è un fiore e dice Dante o perpetui fiori dell'eterna letizia che puruno parermi fate tutti i vostri odori o perpetui fiori lì i fiori sono perpetui qui il fiore è il fiore della caducità quindi la differenza di atmosfera è evidente ma si tratta di approfondire ora questa differenza in relazione a quanto ho incominciato a dire in esordio e cioè in relazione al fatto che a un certo momento come ci spieghiamo e stiamo a Dante come ci spieghiamo che Dante che è convinto e forse ancora più convinto di Petrarca della verità del cristianesimo e cioè di quella verità cristiana che assiste al dialogo tra Petrarca e Agostino come ci spieghiamo il fatto che Dante così potentemente convinto della verità cristiana dedichi la maggior parte della sua vita alla scrittura della commedia cosa crede di aggiungere Dante alla verità cristiana nulla e allora noi possiamo pensare che Dante viva sapendo di non aggiungere nulla alla verità cristiana è possibile questo e se eliminiamo queste ipotesi allora che cosa vuol dire che Dante scrive la commedia e che Petrarca scrive centinaia di liriche dedicate alla sua donna ecco qui la distanza tra i due si raccorcia che cosa vuol dire che Dante scrive la commedia vuol dire che ritiene per riprendere un'espressione che abbiamo già usato in precedenza che la liturgia religiosa non è sufficiente e cioè che il querite primo un regno un dei cercate per primo il regno di Dio deve essere questo Dio in quel querite deve essere questo Dio qualche cosa che appare insieme alla poesia altrimenti Dante non avrebbe dedicato la propria vita a questa impresa straordinaria quindi Dio deve apparire insieme alla poesia son animali al mondo de si altera vista che incontra il sol pur si difende altri però che il gran lume gli offende non escon fuor se non verso la sera ed altri col desio folle che spera gioire forse nel fuoco perché splende provan l'altra virtù quella che incende l'asso e il mio loco è in questa ultima schera che io non son forte ad aspettare la luce di questa donna e non so fare schermi di luoghi tenebrosi ed ore tarde però con gli occhi lacrimosi e infermi mio destino a vederla mi conduce e so ben che io vo dietro a quel che marte a qualunque animale alberga in terra se non sia al quanti che hanno in odio il sole tempo da travagliare quanto il giorno ma poi che l'iccella accende le sue stelle qual torna a casa e qual sanida in selva per aver posa almeno in fino all'alba e io da che comincia la bella alba a scuotere l'ombra intorno della terra svegliando gli animali in ogni selva non ho mai tregua di sospir col sole poi quand'io veggio fiammeggiare le stelle ho lacrimando e disiando il giorno quando la sera scaccia il chiaro giorno e le tenebre nostre altrui fanno alba miro pensoso le crudeli stelle che m'hanno fatto di sensibil terra e maledico il di che io vidi il sole che mi fa in vista un buon nutrito in selva non credo che pacesse mai per selva sia aspra fera o di nocte o di giorno come costei chi piango all'ombra e al sole e non mi stanca primo sonno d'alba che ben chi sia morta il corpo di terra lo mio fermo desir vien dalle stelle prima chi torni a voi lucenti stelle o tomi giù nell'amorosa selva lassando il corpo che fia trita terra vedessi o lei pietà che in un sol giorno può ristorar molt'anni e in anzi l'alba può mi arricchir dal tramontar del sole con lei fossi io da che si parte il sole e non ci vedesse altri che le stelle solo una notte e mai non fosse l'alba e non se trasformasse in verde selva per uscirmi di braccia come il giorno capollo la seguia quaggiù per terra ma io sarò sotterra in secca selva e il giorno andrà pien di minute stelle prima casi dolce alba arrivi il sole e sarei propenso a chiamare questa canzone ventiduesima come la canzone delle stelle questo potrebbe essere un titolo perché la parola stelle compare intorno alla decina di volte e con significati sempre varianti ed è chiaro che la prima attenzione va alle stelle di Dante nella parola con la quale Dante chiude ognuna delle tre cantiche le stelle qui compaiono come crudeli come nello stesso tempo capaci di produrre le cose e lo stesso Petrarca che dice miro pensoso le crudeli stelle che m'hanno fatto di sensibile terra hanno un aspetto variegato vorrei tirare l'attenzione sul penultimo verso della seconda stanza poi quand'io veggio fiammeggiar le stelle e qui non possiamo fare meno di evitare un grande passo della ginestra di Leopardi che dice sovente a queste rive che desolate a Bruno veste il flotto indurato e parche ondeggi seggo la notte e sulla mesta landa in purissimo azzurro veggo dall'alto fiammeggiar le stelle è la stessa espressione che Petrarca usa e che Leopardi riprende ma ormai le stelle di Leopardi non sono più né le stelle di Dante né le stelle di Petrarca quando Leopardi scrive la ginestra ormai si è consumata la grande vicenda che porta dalla poesia che esprime la verità e che la verità che è innanzitutto divina che esprime la pianura della verità per usare un'espressione di Platone a una poesia che ormai non può più appoggiarsi sulla gioia che la pianura della verità può dare perché nel frattempo la modernità e qui è proprio il pensiero filosofico la modernità mostra l'impossibilità di quella pianura mostra l'impossibilità di Dio e noi parliamo di Leopardi e chi mi ha ascoltato avrà avvertito questo gravitare del mio discorso verso Leopardi parliamo di Leopardi perché non si tratta semplicemente di parlare della modernità e di Leopardi ma si tratta di capire che Leopardi è l'iniziatore della modernità e ancora prima di Nietzsche ancora prima di quel grande pensatore che noi italiani continuiamo a così mettere in secondo piano o mettere sullo sfondo che è Giovanni Gentile cosa vuol dire modernità qui vuol dire la coscienza dell'impossibilità che una volta compiuto il primo passo quello greco per cui al di là delle cose che escono dal nulla e ritornano nel nulla c'è il Dio immutabile ci si accorge che se esiste un mondo se il mondo esiste come ciò che esce dal nulla e ritorna nel nulla allora non può esistere Dio non può esistere un Dio immutabile Nietzsche dice appunto Dio è morto ma io lo sto dicendo così sto enunciando la tesi è come se si enunciasse la formula della teoria della relatività senza capire quali sono i fondamenti matematici di questa teoria qui il discorso diventerebbe concreto se si vedesse la necessità che spinge questo straordinario genio poetico filosofico che Leopardi che lo spinge la necessità che lo spinge a mostrare l'impossibilità di Dio già Leopardi dice quasi alla lettera Dio è morto uccidendo dice il Dio di Platone noi abbiamo ucciso qualsiasi tipo di Dio ebbene se le cose stanno in questi termini allora la poesia acquista un significato del tutto diverso e cioè la poesia non può essere più né la poesia di Dante né la poesia di Petrarca né la poesia cristiana dicevamo prima che Dante proprio perché scrive la commedia mostra che il Dio può essere il fine ultimo dell'uomo solo in quanto si presenta nella forma della poesia però anche questa affermazione di Dante che cioè la poesia è il luogo in cui il divino è propriamente lo scopo questa affermazione di Dante ci si presenta come una volontà che ancora non sa esibire il proprio fondamento perché uno potrebbe dire sì è interessante questo che Dio debba abitare la poesia ma perché non può avere invece ragione il Dio cristiano che dice no io tratto la poesia come un mezzo che consente di salire verso di me quindi la critica alla tradizione compiuta dalla dalla forma poetica che Dante dà al Dio cristiano qualche cosa di simile ma con le dovute eccezioni potremmo dire di Petrarca quella situazione non può più sussistere cioè quella affermazione di Dante che Dio deve essere nella poesia deve mostrarsi nella poesia si presenta come una sorta di arbitrio che deve essere riempito di lacuna che deve essere riempita e che è riempita da Leopardi perché Leopardi canta ma canta dopo avere mostrato non col canto ma col pensiero filosofico avere mostrato la morte di Dio allora sì che la critica poetica che è avviata dai grandi poeti cristiani ma potremmo dire dai grandi artisti cristiani allora sì che la critica poetica al cristianesimo acquista quella perentorietà che essa non possiede quando sia semplicemente trattenuta nella dimensione poetica e per questo che il riferimento a Leopardi anche con queste convergenze lessicali perentorie ecco che il riferimento a Leopardi diventa qualcosa di inevitabile nella lettura direi non solo della poesia italiana ma della poesia mondiana quanto più ma vicino al giorno estremo che l'umana miseria suol far breve più veggio il tempo andar veloce e leve e il mio di lui sperar fallace e scemo gli dico ai miei pensieri non molto andremo d'amor parlando mai che il duro e greve terreno in carco come fresca neve si va struggendo onde noi pace avremo perché con lui cadrà quella speranza che ne fe vaneggiarsi lungamente e il riso e il pianto e la paura e l'ira si vedrà in chiaro poi come sovente per le cose dubbiose altri s'avanza e come spesso in darmo si sospira io sono si stanco sotto il fascio antico delle mie colpe e dell'usanzaria chi temo forte di mancar travia e di cadere in man del mio nemico benvenna di livrarmi un grande amico per somma di nefabil cortesia poi volò fuor della veduta mia sic a mirarlo ingarno ma fatico ma la sua voce ancor quaggiur in bomba o voi che travagliate ecco il camino venite a me se il passo altri non serra qual grazia qual amore o qual destino mi darà penne in guisa di colomba chi mi riposi e levimi da terra ov'è la fronte che con piccio il cenno volgea il mio core in questa parte e in quella ov'è il bel ciglio e l'una e l'altra stella che al corso del mio viver l'umedenno ov'è il valor la conoscenza e il senno la corta onesta umil dolce favella ov'è son le bellezze accolte in ella che gran tempo di me l'or voglia fenno ov'è l'ombra gentil del viso umano cora e riposo dava l'alma stanca e là i vei miei pensieri scritti erano tutti ov'è colei che mia vita ebbe in mano quanto al misero mondo e quanto manca agli occhi miei che mai non fie nasciutti la vita fugge e non s'arresta un'ora e la morte viene dietro a gran giornate e le cose presenti e le passate mi danno guerra e le future ancora e il rimembrare l'aspettar ma ancora or quinci or quindi sì che inveritate se non ch'io di me stesso pietate io sarei già di questi pensieri fora tornami avanti se alcun dolce mai ebbe il cor tristo e poi dall'altra parte veggio al mio navigare turbati venti veggio fortuna in porto e stanco mai il mio nocchier e rotte arbore sarte e i lumi bei che mirar so io spenti questi sonetti chiudono il nostro incontro con Petrarca e forse qualcuno potrebbe dire che la scelta di questi sonetti accentua l'aspetto problematico di Petrarca quando per esempio si sarebbe potuto scegliere qualche passo dove Petrarca nel modo più esplicito dice ad esempio io pongo Gesù pongo Cristo al di sopra di Aristotele e certamente c'è anche questo Petrarca che però è il Petrarca più vicino a quella tradizione che diventa sempre più incerta agli occhi della coscienza moderna sta comunque il fatto che Petrarca è anche colui che scrive questi sonetti che quanto ad aura quanto a stimmung a tonalità penso che non faremo troppo fatica a mettere vicino al poetare dei leopardi e guardiamo il sonetto che incomincio quanto più ma vicino al giorno estremo e che chiude con l'affermazione che vedrei in chiaro poi come sovente per le cose dubbiose altri s'avanza e come spesso in danno si sospira ma c'è qui più la delusione per le cose terrene che non la gioia per l'eterna letizia per i perpetui fiori anche il sonetto che dice io sono si stanco è estremamente interessante perché in sostanza dice viene Cristo ma poi io rimango in qualche modo come prima risentiamolo sia pure per sommi capi benvenne a dilivrarmi un grande amico che è Cristo per somm et ineffabil cortesia poi volò fuor della veduta mia e allora questo verso che Dio vola fuori dalla sua veduta può significare il momento di deviazione costituito dagli errori giovanili di Petrarca però se andiamo avanti a sentire il sonetto vediamo che non si tratta semplicemente di questo ma di un Cristo che lascia nell'incertezza nell'incertezza ancora Petrarca dice ma la sua voce ancora quaggiù rimbomba quindi per ora il Cristo è presente ma poi il sonetto chiude con una domanda cioè abbiamo appena sentito che Cristo fa sentire la sua rimbombante voce qui giù la sua rimbombante salvifica voce ma poi il sonetto chiude con una domanda che ci lascia perplessi e comunque ci porta nella direzione in cui accennavo prima del Petrarca che si muove nel potremmo dire con qualche sforzatura nel clima leopardiano qual grazia qual amore o qual destina mi darà penne in guisa di colomba che io mi riposi e levimi da terra ma se un uomo ha sentito Cristo non fa più questa domanda fa questa domanda solo se la voce di Cristo è un po' come quella di Cristo che dice al giovane ricco dalle tue ricchezze ai poveri ma non gli dice che cosa deve fare per avere la forza di dare la sua ricchezza ai poveri l'ultimo sonetto il 272 tra i più potenti anche tra i più terribi la vita fugge e non si arresta un'ora il contenuto è negativo ma il canto è splendido e realizza nel modo più pertinente quell'unità di poesia e filosofia che ormai si impone all'orizzonte la verità che è cantata dalla poesia della tradizione dunque della poesia cristiana la verità è tramontata di questo tramonto si si vede l'anticipazione in in momenti poetici come questi ultimi che abbiamo sentito di Petrarca col tramonto della verità che cosa accade che quell'antico rimedio che era cercato come dicevamo all'inizio dei nostri incontri dal mito della filosofia l'antico rimedio svanisce e rimane come ultima forma di rimedio e tanto per stare ancora una volta all'addizione di Leopardi e rimane è la forza con la quale l'anima sente la nullità propria di tutte le cose la forza salvifica l'ultimo momento festivo è dato dalla potenza con cui si avverte la nullità del tutto possiamo prefigurare un futuro dell'umanità in cui la tecnica si contenderà con questa potenza il ruolo di salvare ancora per un poco l'uomo ci sono quindi due forme di tecnica che attendono l'uomo la tecnica poetica che è quella annunciata da Leopardi la tecnica dove la ginestra è l'ultimo canto che dà un qualche respiro all'uomo e la tecnica fondata sulla scienza moderna non è nemmeno impossibile un connubio tra le due perché nonostante quello che si dice la poesia è sorella della tecnica si tratta di due forme di potenza ognuna delle quali anche la religione è una sorella della tecnica si tratta di forme di potenza con le quali l'uomo cerca di sopravvivere certo che il problema è ancora più complesso perché se si potrà costituire una sorta di paradiso della tecnica dove in qualche modo parli ancora la poesia o parli la tecnica guidata dalla scienza se si potrà costituire e non è un'utopia pensarlo perché già ci pensava Keynes a questo agli inizi del nostro secolo se si può pensare a un paradiso della tecnica allora quello sarà il luogo dove dove l'uomo potrà accedere verso una forma nuova di verità e perché dico questo perché il paradiso della tecnica che non è una semplice ripeto ipotesi il paradiso della tecnica sarà un paradiso fondato o sulla fede scientifica o sulla fede poetica sono due forme di fede sono due forme di volontà di salvare l'uomo dal nulla dalla morte dal dolore ma l'uomo non si accontenta della fede la fede è troppo poco quando si tratta quando c'è di mezzo la nostra salvezza allora non basta l'assicurazione né della poesia né della tecnica né della tecnica poetica né della tecnica scientifica allora quel paradiso della tecnica potrà essere il luogo in cui l'uomo presumibilmente fornito di tutto ciò che costituisce i bisogni primari bisogni primari avvertirà la lacuna essenziale cioè la mancanza della sicurezza della felicità tecnica raggiunta tecnica poetica scientifica ciò che sarà inevitabilmente assente sarà la verità di questa felicità del paradiso ma sarà una verità che non potrà essere la verità di cui discorre Petrarca nel secretum che non potrà essere la verità di cui parla Dante di cui parlava Aristotele e che non potrà essere nemmeno la verità che costituisce la pur grandiosa irruzione della filosofia contemporanea la quale dice la verità è soltanto il caduco no nel paradiso della tecnica quello sarà il luogo in cui i popoli e non semplicemente noi singoli i popoli avvertiranno in modo corale la necessità di rapportarsi a un senso che possiamo dire inaudito della verità a un senso a un senso a un senso a un senso a un senso